ciao ragazzi ciao a tutti allora abbiamo Luca Cordero di Montezemolo, briatore e non lo so, la Marcegaglia, come state? su un aereo direttamente dall'aereo ciao a tutti, io sono onorato di essere qui io sono sincero nel dire di essere emozionato nel stare nella stessa stanza discord di Palle Uomo e Wide Half addirittura, ciao ragazzi, come state? assolutamente sì tutto bene, tutto bene allora, Chitano vi ha posizionato appositamente in basso grazie, grazie non vedo nulla della live purtroppo però dobbiamo dire che oggi c'è l'alleanza d'acciaio finalmente l'epigono che si allea col maestro papà, anzi papà, io direi papà ne ho tanti su Twitch però tu sei ho riconosciuto mio figlio finalmente no, comunque cazzo da parte ci siamo messi al lavoro un'alleanza ma Wide in che senso Marra è tuo padre? nel senso che in realtà si è autodefinito mio padre però io ho accettato questa condizione diciamo che è meglio a Marra che tanti altri che sono definiti i miei papà diciamo così preferisco Marra fra tutti diciamo Marra com'è avere Wide come figlio? Marra è mio padre il problema di un aborto non riuscito molto duro scherzo scherzo in realtà siamo siamo molto contenti di avere qui Palle Wide perché è stato un lavoro di gruppo questo va detto assolutamente quindi noi possiamo permetterci di prendere il culo anche voi in realtà però siate buoni ma sì siamo un po' gli Avengers anche gli Avengers si prendono in giro da soli no? con quelle scenette comiche esatto esatto quindi possiamo droppare la prima bomba vado Palle lo diciamo? vada vada Matteo Saba è bannato da Twitch a tempo indeterminato e sta eludendo il ban no no allora ovviamente Twitch stiamo mostrando questo contenuto a scopo divulgativo sì per cronaca ma anche per avvisarvi per ricostruire la storia di questa persona che sta eludendo il ban che dovrebbe essere bannata attualmente e quindi sono contenuti degli insulti antisemiti leggete tanto no? qua vedete Matteo Trattino Basso Saba poi si vede anche in chat ma che significano queste frasi in tedesco? poi ci sarà la traduzione non erano quelle palle uomo che sal tedesco quindi non abbiamo problemi esatto non so quelle mappe è una cosa di ergognosa ci può illuminare palle uomo su questo diciamo motto è qui poi tra l'altro palle uomo insomma conosce bene il tedesco quindi non leggere per l'amor di dio una cosa grevissima non sapeva ancora cosa aveva detto però faceva troppo rito come vedete l'account è bannato attualmente allora questo perché questo perché Whitealf tu ricordi bene il periodo in cui la chat di Liccardo la parte tossica della famiglia provava a far bannare Liccardo assolutamente e io tra l'altro ho ricostruito mentalmente questa cosa perché io me la ricordavo bene cioè io tutta questa cosa qua mi era stata riportata ma non avevamo le prove esatto ci mancava tutta la parte di prova assolutamente va bene va bene allora io direi di andare qua con la ciccia allora qui abbiamo i log vai vai Marco puoi fare le action si si se puoi zoomarla pure un po' sia schermo che a loro perché sono un nabbo quindi ho lasciato il layout di Mezzogiorno di Fuoco quando ho fatto la registrazione da OBS comunque questi sono i log nella chat di Ometor grazie rumeno con l'account vedete qui The President Club se è il solito basso spendente ciao ragazzi vabbè qua mando in play comunque alcuni sono divertenti altri meno alto spendente basso spendente si si marchio registrato che è il modello di Rolls Royce bla 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 The President Club fa la sub per otto mesi di fila un abbraccio amico mio a breve lo studente supererà il maestro saluti presidenziali un ride si mangia con la mano sinistra per quello non era convinto Andrea lui l'ho conosciuto fa morire da ridere personaggio bla 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 qua fa altri ride spara un sacco di cazzate tutto normale leggi whatsapp tutte scuse per sfondarsi e poi qua comincia comunque recensione buone in assoluto è molto risolutivo ok cretino totale TM Umberto Paroliere da quattro soldi Umberto Paroliere da quattro soldi che pagliaccio un buffone di corte distruggerli tutti uno per uno pagliaccio corig qua era riferito a Thomas ma corig fuffacuro da quattro soldi comunque fanno abbastanza ridere le ette oggi President Club fa la sub bla 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 poi qui è The President Club giusto? ma se andiamo avanti io non ho cambiato nome utente sopra leggiamo il secondo nome di Matteo che non è Matteo trattino basso sabba ma è The Real Matteo sabba trattino basso uno sono incazzato non questo coglione basta non io so come pochi basta ti faccio il culo spera che Andrea si dimentica di farmi entrare scritto nella chat di Andrea di Omiatol spera che non entro non urlare non ne hai bisogno quando entro ne avrai se entro son cazzi se entro lo sfondo se entro son cazzi suoi devi sperare che Andrea non mi fa entrare se entro io gli faccio male buonasera a voi stasera ridiamo buonasera iscritto e poi il messaggio che ieri ci ha fatto pronunciare questa frase Eureka ma non basta poi abbiamo anche una conferma ripeto che arriverà in live dai ragazzi leggete un po' cosa c'è scritto come primissimo messaggio del buon The Real Matteo Saba 1 poi vi facciamo vedere anche le date tranquilli The Real Matteo Saba fa la sub tier 1 mi hanno bannato porco di quel dio ah allora questione mister antipatic Giulio palle volete introdurre voi tra l'altro c'è un post di mister antipatic sul nostro gruppo fatto pochi minuti fa quindi un'esclusiva allora per quello che so io assistito addirittura io questa storia me la ricordo bene perché forse addirittura ero ancora nel gruppo dei trollini e praticamente mister antipatic appunto si era innemicato il signor Matteo Saba e lì ci fu forse il primo doxing da parte di Matteo Saba di confronti di personaggi non pubblici perché poi l'ha fatto anche a palle uomo l'ha fatto a innumerevole altre persone uno dei primi adesso non so dirvi se è la prima volta che lo fece però sicuramente è la più cosa? a me non mi ha fatto doxing ah è più o meno dai non ha messo no 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 non ha messo il tuo indirizzo ok sì diciamo non ha messo un leggero ma è per quello che lui si lamenta che io sono un personaggio che si nasconde nell'anonimato capito? certo perché non è riuscito a trovare nulla su hitler aia aia porca troia che mi ha mandato social che t'ha mandato au questo è molto pesante ragazzi poi social purello tartassato proprio ma tanto è un video allora facciamo una cosa facciamo una cosa allora palle wide io vi mando il video lo fate vedere voi dopo ma vi leggo ciò che c'è scritto 10 5 2022 10 maggio chat di fayon sto inventando mi hanno bannato tutte in caps lock quel bastardo di mugnano mi ha fatto bannare sì per incitamento all'odio mugnano è un paese in provincia di napoli dove vive il social media manager più sfigato d'italia allora matteo saba sul gruppo telegram buonasera ragazzi sarebbe rivedere pure la seconda ragazzi offro fino a 1000 euro a chi mi dà informazioni su mister antipatic garantisco anonimato assoluto fate girare a me sembra inquietante sta roba a dir la verità lo è e andiamo a vedere questo bel post del caro mister antipatic allora telegram matteo saba questi sono screen che ha diffuso mister antipatic così lo denunciamo oggi stesso con i miei avvocati fai tutto con calma poi sei emoto ci sentiamo dopo che mi racconti ho visto che hai fatto un video dove menzioni la mia holding ah questa era chat privata allora tra mister antipatic e saba quindi l'ha diffusa proprio mister antipatic i miei avvocati non editi chiederanno un risarcimento cioè addirittura il risarcimento preventivo anche qui forse l'avviso di denuncia penale risarcimento ho visto che hai fatto un video che menzioni la mia holding i miei avvocati non editi chiederanno un risarcimento dove probabilmente sarai costretto a venderti qualche organo probabilmente sarai costretto a venderti qualche organo e qua torna la clip dell'altro giorno le tue intimidazioni te le puoi ficcare nel deretano da lunedì mi dedico a te alla tua famiglia ai tuoi clienti al tuo lavoro vediamo chi arriva a fondo dai qua registro delle imprese cittadinanza ucraina bla 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 e pubblica queste sono le storie the president club twitch storie di Matteo Saba dove pubblica alcune cose su mister antipatic addirittura la storia successiva fiat punto che antipatic ha censurato targa auto di mia madre ma ci rendiamo conto? io veramente non ho parole assurdo nelle storie instagram dati auto di mia madre profilo facebook di mio padre beh allora ragazzi io direi che insomma qui fake non fake non sussiste in alcun modo e la considerazione finale intanto wide se tu vuoi attaccare la live così ti raidiamo va bene grazie wide ragazzi mi raccomando qualche anticipamento di quello che si verrà così per incuriosire la live si chiamerà subgate volume 2 il dessert quindi sarà il dessert giustamente il nostro è il dossier e il tuo è il dessert il dessert e l'unica cosa che mi spiace di questa storia è che non suonerò mai su nessuna mangusta nel senso che il sax non l'ho mai suonato grazie per l'anticipamento noi ti facciamo il ride comunque palle uomo e wide alf ufficialmente nell'olimpo di twitch direi dai dai perfetto buonasera benvenuti grazie per il ride del cerbero incredibile ragazzi per chi c'è da qua da molto e sappiamo tutti i vari meme le pigono le pigono incredibilmente si unisce alla squadra in realtà veramente ringrazio ringrazio il cerbero e in realtà è stato un lavoro di squadra come abbiamo detto ieri l'intro in realtà serviva perché pensavo arrivasse tra un po' il ride e poi c'erano due chicche quella di palle uomo potevano mettervela dai ragazzi siamo seri alcune cose vanno date anche a palle uomo che ha lavorato un sacco e tutti i palle ombra attorno quindi intanto vi do il benvenuto a tutti grazie per i follow grazie per le sabine allora perché siamo qui perché siamo qui dopo la live del cerbero perché siccome loro vi hanno dato il dossier noi vi vogliamo dare il dessert in realtà appunto per lo più le cose sono state dette dal cerbero ma abbiamo alcune chicchette alcune conferme tra cui quella per esempio di social boom che ci è arrivata in diretta in live dal cerbero che dobbiamo dobbiamo farvi vedere assolutamente allora innanzitutto apro il discord che in realtà è già aperto non so se palle già in centro sociale palle penetri non mi hai dato il mod e mi sono dimenticato suonatore te lo do ora allora ricordatevi che questo è il bollino rosso non tanto per il tema ma perché sarete tanti quindi io spero che non darete troppo da lavorare ai signori modatori grazie sir ma io tolgo pure gli alert perché non vorrei mai che appunto oggi ce la facciamo con gli alert grazie mille chi è che ha regalato i sub bombardino incredibile ora che non può più usare gli alert ok eccolo qua palle uomo 1 2 3 prova palle si vediamo se clippi pure qua parla un po' clippando eh pochettino vabbè oggi oggi va così con palle oggi va così ma sono dei attacchi comunque sono dei piccoli attacchi cosa che voglio dire dall'inizio siccome ho già letto un po' fatelo entrare fatelo entrare no ragazzi è bannato da twitch prima non si sapeva lo sappiamo è bannato da twitch qualora dovesse passare in chat verrà bannato per illusione dal ban assolutamente qualora vada in live io personalmente tutto quello che ha detto è il diritto di replica perché il diritto di replica è sto cazzo sui suoi canali sui suoi canali si prenderà il rischio ovviamente assolutamente su youtube perché da twitch ripeto e ricordatevelo è bannato se lui dovesse andare in live ora lo segnalerei per illusione dal ban certo e lo staff di twitch io spero vada a vedere quello che abbiamo detto prima e che prenda visione anche di quello che stiamo per far vedere certo certo tra l'altro se poi veramente flame vuole entrare me lo dice scrive in privato gli mando il link del discord o lo puoi prendere dalla chat facendo un punto escomativo discord e lo buttiamo in chiamata ripeto live bollino rosso semplicemente per i mod perché oggi immagino i miei mod non sono preparati a tale quantità di persone sono bravi sono bravi non lo metto in dubbio intanto ringrazio Ingrid per le sub insomma che sta facendo la sub lo ringrazio molto si ragazzi scusate il canale c'è ancora perché lui non è bannato sul president club è un bannato ambulante un bannato che non sa di essere già bannato ok il problema è che lui è iluso il ban se nessuno se ne è accorto cioè chiunque può eludere il ban se nessuno se ne accorge non verrà automaticamente bannato capiamo questa cosa e andiamo avanti certo certo allora il bollino rosso è semplicemente sponda alpaca che era da un po' che non passava sui canali adesso è ritornato in attività semplicemente una moderazione un po' più a pugno duro semplicemente questo però in realtà ho visto che anche dal cerbo si sono comportati bene sono stati tranquilli sono stati molto tranquilli quindi è solo la quantità di persone che ovviamente i miei mod sono abituati a moderare una chat da se va bene 600 se proprio nel live è andata meglio se proprio al massimo mod se andate nel panico mettete lo slow mode esatto esatto chiaramente oppure se c'è bisogno la solo sub io non la voglio mettere io non la voglio mettere in solo sub assolutamente perché non è la live dove devo lucrare ci sono tantissime persone che vengono dal cerbero che di sicuro non si abboneranno da te anzi no è per dire assolutamente se la devono mettere solo per una questione di moderazione io ho dato indicazioni di non mettere assolutamente solo sub comunque che ve voglio dire ragazzi preparatevi al dessert perché oggi abbiamo dica palla dica scusa te devi scaricare da telegram le novità perché durante la live del cerbero credo ok ed è una cosa che mi fa schifo cioè la tua risposta Matteo Saba è vergognosa vergognati continua a strumentalizzare e anche a falsificare che è schifo no ma infatti io vorrei sapere che cosa succede cioè nel senso adesso adesso come ne esce perché sono veramente curioso io non so io purtroppo sono bloccato se qualcuno avesse come si dice il la possibilità di mandarmi le storie di Matteo non so se Matteo ha pubblicato qualcosa se ha seguito la live se ha seguito la live sicuramente no lui durante il live del cerbero guarda i simpson solitamente perché l'orario più o meno è quello quindi assolutamente guarda facciamo così facciamo così perché non le voglio neanche mostrare per rispetto alla persona che tra l'altro era la richiesta della famiglia che gli venne fatta smettila di strumentalizzare questo nome questo personaggio poi lui l'ha raccontata come no per colpa degli altri però sta facendo questo perché ti dico riporta la foto appunto del suo amico defunto e scrive nel giorno in cui te ne sei andato quindi oggi è il 24 gennaio dappertutto immagino mi dai la forza per non mollare mai ciao amico mio mi manchi cuoricino ah queste sono di oggi queste che mi hai mandato adesso stavo scaricando io pochi minuti fa pochi minuti fa c'è ancora puoi scrivere 24 gennaio 2022 nel primo post mentre nel secondo post ci può essere il dubbio di un'altra omonimia però nel primo c'è la foto c'è il nome insomma sta lì nel secondo post è 24 gennaio 2022 24 gennaio 2023 un anno che non ci sei più ma il tuo ricordo vivrà per sempre e poi AF e noi ma chiunque googlando può scoprire banalmente che il povero Alessio Felicino scusate io sto salvando intanto tutto adesso ve le faccio vedere sto salvando le novità sulla cartellina anche io ho le cartelline ovviamente vuoi far vedere proprio luce quella ti ho mandato su telegram sia dall'articolo di wikipedia dedicato al defunto sia la notizia da un giornale online locale e noi possiamo dire che o tutti hanno preso una grande cantonata o il signor Alessio Felicino non è morto il 24 di gennaio e mi fa schifo mi fa schifo e altro che il grande rispetto e la grande amicizia con la vedova i familiari vergognati allora adesso fatemi aprire la cartellina e vi faccio vedere tutto allora subgate eccolo qua sabagate scusate ormai non chiameremo nessuno su discord perché è bannato non può comparire non può mettere piede tanto i suoi social li sa usare bene no per cui assolutamente ma perché no capito entrare qua c'è dal cerbero entrare qua era un pericoglioni poi non rischi un banno assolutamente quello che vuoi che faccio vedere per prima perché io lo sono scaricato e non lo nominate guarda delle tre non le due che citano il defunto ma l'ultima dove si c'è insomma dove si dà la notizia della morte dove su wikipedia magari uno può avere dubbi perché ci sono tanti errori su wikipedia ma l'altro è un giornale online ah ok allora aspetta questa ancora non l'avevo scaricata non me la so persa no io c'ho solo quella no mi ha mandato quella di wikipedia e quella di oggi le due sue storie esatto no no quella di wikipedia te l'ho mandata io non è una sua storia quella lì di aprire ah quella lì di wikipedia le due storie le ho lette ok ok perfetto grazie da noi grazie per le dieci sub impazzuto impazzuto completamente allora quella di wikipedia vuoi far vedere ok perfetto però non è forse meglio far vedere va bene le facciamo vedere scusami scusami perché allora il presidente fa due autogol perché effettivamente quando dico in chat è vero la data di nascita è 24 gennaio sì la data di nascita però io leggo però io leggo sì cioè che sta che sta cioè che che cazzo vuol dire cioè si è confuso tantissimo perché la data di morte è a febbraio no perché allora vi faccio vedere la prima storia e intanto ti condivido lo schermo a te palle su discord così vedi tutto quello che faccio dai ma non le mostro le storie perché mi fa veramente schifo guarda va bene però è almeno contestualizziamo se no la gente non capisce mi scusi va bene io le farei vedere solo per questo motivo allora questa è la postata un'ora fa adesso la faccio vedere questa è la postata un'ora fa nel giorno in cui te ne sei andato mi dai la forza per non mollare mai ciao amico mio scusate aspettate che chiudo telegram se no mi arrivano 50 mila notifiche ok perché dice nel allora se avessi scritto dal giorno in cui te ne sei andato però nel vuol dire che stai dicendo che sei andato oggi allora ma l'altra storia è inequivocabile cioè vergognati allora aspettate un attimo vi faccio vedere pure l'altra storia l'altra storia è questa qua e dice 24 gennaio 2022 24 gennaio 2023 un anno che non ci sei più ma il tuo ricordo vi va per sempre cioè quindi cioè è uno degli errori di Matteo Saba il problema è che qui stiamo parlando di una persona che è venuta a mancare di cui lui si è sempre riempito la bocca per cui ah c'è signor di chi ha scritto il post lo saluto è sicuro di sicuro ora dirà che non l'ha scritto lui però ok e come l'ha scritto lui no ora dirà così però vi ripeto capitolo chiuso fine questo è un uomo è un uomo che nella confusione più totale nella confusione più totale invece di fare l'unica cosa che potrebbe fare ovvero stare zitto o chiedere scusa no non lo fa la mano ok ovviamente non fa parte del personaggio purtroppo ma che schifo che schifo e poi e poi qui vediamo io spero io spero che i familiari prendano le dovute le dovute è morto una notte tra il 5 e il 6 febbraio qui cioè il 22 a causa di una forma e quindi qui abbiamo la conferma e là c'è un articolo di un giornale locale che dice la stessa cosa esatto e soprattutto scopriamo da dove nasce la confusione o comunque boh si è confuso tantissimo perché il 24 gennaio è il compleanno stando a wikipedia io non lo so non lo conoscevo quindi comunque stando a wikipedia è nato il 24 gennaio ma andiamo avanti perché ripeto come è stato chiesto lui anche qui si copre di disonore perché gli è anche stato chiesto non strumentalizzare il nome di Alessio Felicino e a me dispiace a me dispiace per gli amici la famiglia veri la famiglia e tutte le persone che lo conoscevano vergogna ragazzi anche in chat per favore ho capito che c'è Riccardo però non è che dobbiamo cogliere l'occasione facciamogli educati non mi fate sclerare i mod poverini che manco li pago ancora per lo meno adesso per cui veramente non me li fate sclerare lasciate in pace Riccardo tanto non si parla di lui si parla ecco concentriamoci su questo che mi sembra veramente ecco questo io non l'avevo visto durante la live del Cerbero stavo attaccando eccetera me l'hanno passato di palla adesso ecco questa forse è veramente più che il desert è un amaro se voglio lascia un amaro in bocca come finale come finale di stagione perché ancora una volta come diceva giustamente Palle ricordava già l'associazione gli aveva detto di non strumentalizzare e se questo non è strumentalizzare che cos'altro è cioè per me è questo secondo me andiamo avanti perché sta cosa mi fa veramente vomitare sì 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 anche a me ma più che altro che si parla di una persona che non perché metterla in mezzo a queste che poi confronto andiamo avanti proprio per rispetto andiamo avanti continuiamo qui con questa parte allora con cosa vogliamo iniziare tu non mi hai ripassato la cartellina però se tu l'aggiorni se tu l'aggiorni i nomi sono cambiati ci sono dei numeri sul drive aspettate un attimo datemi un secondo chiaramente non era organizzato perché tra la live del cerbo e la mia c'era poco tempo poi mi avete pure fatto tagliare l'intro quindi allora fate un attimo che vado sul drive così abbiamo la cartellina sabagate allora riassumendo per chi non ha seguito il cerbero dal cerbero sono state dette tante cose qui stiamo per mostrare l'evidenza ok perché ne siete così sicuri ma è una coincidenza ma non è così ora vedrete tutto il tutto sarà poi magnificamente riassunto dal video di rise che verrà mostrato stasera dal cerbero ok ok perfetto mi è giunto anche della roba c'è il video primo che hai messo che cos'è il video primo tu segui l'ordine 0-1 ora ah ok 0-1 si si lo visti ora i numeretti ok 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 allora tu stai vedendo lo schermo te l'ho condiviso sul discord si però ora vedo discord un attimo no perché volevo mettere anche la tua webcam in modo tale che quando cambio su discord si veda il palle uomo allora perché lui fa vedere la webcam qua fatti un secondo eh prova a disattivare a riattivarla scusa palle perché non la fa vedere disattiva riattiva sono qui non so perché non mi fa vedere la tua webcam vuoi vedere forse perché stai streamando discord ah può darsi io ti sono eh lo so prima infatti me la faccia vedere ok ok trovato eccolo qua il signor palluomo c'è un pollo eccolo qua eccolo qua va bene ehm anticipa raccontaci del primo del primo di cosa andremo a vedere come prima cosa eh tra l'altro non lo devo aprire anch'io la prima cosa che andremo a vedere è il log dell'account quello recuperabile il log della chat di Liccardo così per spiegare anche che tipo di rapporto particolare noi abbiamo visto dal Cerbero che lui è stato bannato perché scriva delle cose in chat da Liccardo purtroppo non si può recuperare tutte le cose che ha scritto in quella chat però possiamo vedere ad esempio cosa scriveva con l'attuale account nella chat di Liccardo ok allora aspettate un attimo che ve lo faccio vedere così ricostruiamo partiamo un po' da lontano ragazzi perché ovviamente eh ok eccolo qua adesso provo anche a zoomarvelo un po' ok allora partiamo qui e dall'alto in basso prima abbiamo fatto è scattata la discussione ehm sul nella via del Cerbero allora Liccardo volevo salutarti non penso eh sarai una persona libera in senso generale per ancora molto tempo vabbè qui eh sono appunto stiamo parlando della cella di Liccardo quando Matteo andava lì a dire che sarebbe presto finito in carcere eh solo che ti fa pentire di essere la persona che sei te lo assicuro nessuno minaccia io porterò a termine il mio compito per una questione morale ovviamente solo per la morale ragazzi eh qui viene fuori il vero lato da Punisher ehm del signor The President Club e la morale è tanto più grande rispetto a quello che pensa e ricordati queste parole ieri hai perso i soldi con una famiglia italiana di classe media fa la spesa volevo ristabilire per lui delle condizioni di potere d'acquisto è un atto e qui rispondeva qualcuno adesso lascerei perdere vabbè se non leggere tutto io sono con te lo faccio lo faccio poi parlo ricordatelo esperienza io non sono contento qui probabilmente si riferiva alle denunzie esperienza di due tre la class action scusate anzi perché si parlava di class action ai tempi esperienza di due tre giorni ecco perché sei credibile comprati un dizionario ascoltami ma quale giustizia vabbè comunque un Matteo Saba amichevole ma in Giardini Riccardo avete già visto prima dal Cerbero con che epitedi si è qualificato signor Matteo appunto qui ovviamente siamo solo vi portiamo il dessert di quello che abbiamo di cui abbiamo già parlato dal Cerbero allora come secondo che cosa abbiamo vediamo secondo era un link io pensavo avessi salvato il link dentro quindi andiamo io ce l'ho volendo e il log della chat è quello lì sì ok allora aspettate un attimo facciamo così il log della chat di Omi allora qui si vede molto piccolo adesso cercherò di zoomarvelo ok andiamo subito qui c'è ovviamente quella che in realtà abbiamo visto anche il Cerbero questa sì sì va bene ripeto però la rica si chiama che qualcuno si sia collegato ora ovviamente ecco qua qui c'è il famoso messaggio di cui si è parlato dove nel 22.05.10 alle 20.47 e 42 secondi se vogliamo essere precisi mi hanno bannato di quel dio ok e qui abbiamo visto prima che aveva prima con Matteo trattino basso no con Matteo official come si chiamava l'altro perché ormai con tutti questi Matteo non si capisce più un cazzo qual'era quello precedente Matteo official Matteo trattino basso trattino basso sabba ok che era quanti mesi 39 non mi ricordo un sacco di mesi da Omi aveva 39 di sab e qui abbiamo la sab ma questo l'abbiamo già visto dal cebro però stiamo ricostruendo aspetta che ti ripristino il link 2 che è importante allora qua sono comunque importanti le date aspetta che te lo rinomino direttamente con il link eccolo qua dimmi quando hai fatto così cambio vai 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 ok hai cambiato il nome quel link ho fatto un attimo che ce l'avevo sul drive ok qual è il 2 tra la log 3 questo qua esatto che però sarebbe quello che era il 2 ok è anche questo qualcosa che abbiamo già visto dal CER però ci dobbiamo concentrare sulla data perché la domanda è come fate essere sicuri che lui si riferisse a quel ban e non ad altro ad altri ban ok ok perché siete sicuri che sia effettivamente lui oltre a tantissime prove tra l'altro ne citeremo alcune che non abbiamo schermo però io ho parlato ieri ho mandato messaggi vocali con Ivan Grieco il quale effettivamente ci dà conferma poi se vorrà passare in live o venircelo o raccontarlo da lui però lui conferma che effettivamente quando gli abbiamo chiesto di controllare se quali informazioni fossero state passate da Matteo Saba perché c'era la domanda sulla famosa interrogazione parlamentare che veniva citata quella sulla famiglia di Riccardo per chi non si ricorda se l'abbiamo anche parlato nell'altro live ok se no recuperate su youtube la questione era lui a noi ha detto no non ricordo ora controllo effettivamente all'inizio ha detto sto avendo difficoltà a ritrovare i messaggi dove mi dava le cose su Riccardo e ieri quando gli ho fatto la domanda precisa ho fatto ma puoi chiedere a un tuo mod così o qualcuno se si ricorda se girava o se te lo ricordi tu se girava come Matteo Trattobasso Saba nella tua chat sì sì io Matteo Trattobasso Saba non me lo ricordo nella mia chat quindi secondo me era già successivo cioè le prime volte non me lo ricordo quindi ovviamente non è una sicurezza ok fatto sta fatto sta che Ivan dice sì effettivamente quando mi avete chiesto quella roba di andare a controllare io sono andato a cercare la chat di Twitch perché ricordiamo e questo lo dicono sia Ivan che Matteo Saba in due live diverse Matteo scrive ad Ivan durante la vicenda di Riccardo proprio la prima ok dove erano in live da Omiatol c'era Omiatol c'era Riccardo c'era Ivan Grieco chi altri c'era non mi ricordo perché non l'ho seguita e lui contatta Ivan fornendogli delle informazioni che poi Ivan ha definito che è niente di particolare quindi non la roba dell'interrogazione parlamentare quindi ma questo l'abbiamo anche già detto però per chi magari forse qui la prima volta Ivan Grieco dice che la parte dell'interrogazione parlamentare non gli è mai stata mandata la Matteo però delle piccole chicchette qualcosa gli ha mandato qualcosa gli aveva mandato qualche informazione neanche chicchetta ha detto delle informazioni però la questione che Ivan si ricorda anzi all'inizio era sicuro l'80% poi successivamente dice no no aspetta ora mi ricordo effettivamente lui era stato anche bannato per qualcosa che aveva scritto mi pare da Liccardo però non so bene cosa e quindi anche Ivan dice ok quindi lui non poteva manco stream certo certo ovvio ok dopodiché qui in questa in questa cosa se la apri questa cosa che io non vedo perché non vedo il tuo schermo ok adesso dovresti vederlo dobbiamo fare una ricerca qua non i messaggi perché c'è da un po' si vai no devi prendere se non sbaglio devi andare là dove si fa vedere il messaggio dei 39 mesi questo è con Matteo tratto basso Saba qua si vede quello che abbiamo visto al cerbero 39 mesi quindi non è un utente a caso giusto per fare il recap anche per chi non ha seguito il cerbero prima ok e ovviamente per chi sta seguendo su youtube nel futuro quindi qua sappiamo che lui è stato abbonato per 39 mesi anche Ryze ieri ci ha dato conferma è qua ragazzi è qua subscribe scusate ve lo avvicino un po' non so forse al massimo più di così non posso avvicinarvelo a Tiger 1 per 39 mesi ok 32 mesi di streak quindi questo questo è quando ancora si chiama Matteo Saba aveva 39 mesi di sub da Omnitol ok pare che sia questo 39 mesi che data scusami allora la data qui c'è il no qui ti dice l'ora dov'è che questo comunque dovrebbe essere magico vabbè comunque poi verifichiamo diciamo è uno degli ultimi messaggi come Matteo Saba però se il log di una chat sola in teoria lo possiamo vedere no da qualche parte si aspetta l'ora a mezzanotte si comunque ti ho detto è maggio pensavo ci fosse scritto anche la cosa scusami non l'ho non l'ho estratta però comunque dovrebbe essere uno degli ultimi messaggi dopodiché aspetta mettetevelo non so non l'ho letto ragazzi non sto guardando troppo la chat ovviamente l'evidenza si vuole entrare la data è nel nome del file ah ok perfetto però qui io non ho più il nome perché tu l'hai rinominato eh sì infatti quello è stato un però te lo posso recuperare ok ok noi che abbiamo rinominato il file quindi non c'è non c'è la data comunque grazie Rise se tu te la ricordi scrivecela in chat però ho palle adesso la recupero un attimo Rise non parla tanto infatti non è che c'è Rise in chat visto l'abbiamo subito risolta comunque questi sono gli ultimi messaggi come come Matteo Trattobasso Saba ok esatto posso confermare che Omietrol 22-04-26 ok perfetto il 26 ok perfetto ok no 04 si ok è giusto eh vallevuo no perché mi ero confuso con il 22 che era l'anno scusami vabbè se riapri invece quella con Matteo l'altro profilo di Matteo quello che attualmente è The President Club ok vediamo il giorno in cui scrive mi hanno bannato ah sì quella che abbiamo fatto vedere prima sì così confrontiamo le due date guardatemi un attimo che torno indietro ok no perché mi ha tolto dal drive non dobbiamo confrontare con l'altro documento dobbiamo confrontare con la live di Riccardo dove lui scrive quel messaggio antisemita allora Sabagate eccolo qua ah non quello dove dici che hai bannato quale che vuoi devi prendere quello che avevi aperto prima con i messaggi di Matteo Sabag quello dove dice mi hanno bannato allora era quello allora era quello dovrebbe essere aspetta eh ragazzi chiaramente avesse avuto un po' io volevo fare la 6 e mezzo per un motivo però giustamente stavamo fare le continuative vabbè te lo dico io lui scrive la cosa del bann il 10 maggio però ovviamente va mostrato se no ah ok mi ricordo l'avevo preso dall'altra perché adesso ho due cartelle capito quella questa qua eccolo qua il log perfetto adesso ve lo faccio vedere ok eccolo qua tanto è al fondo me lo ricordo mi hanno bannato porco Dio eccolo qua ci siamo ci siamo ci siamo eh leggi la data è il eh 10 05 2022 quindi successivo ora come si può ritrovare anche nel video che riporta la cosa su YouTube il messaggio da Riccardo è stato scritto l'8 maggio quindi il sabrano del messaggio con 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 la roba antisemita esatto non è un epito cioè nel senso il contenuto le parole in maniera individuale sono parole mi bannate serpentello che oggi è il giorno giusto proprio ma ha rotto il cazzo tanto posso dire che godo sì sì no c'è nel senso che oggi c'è proprio basta c'è nel senso ok va bene così ci fermiamo qua serpentello mi spiace perché ogni tanto magari però andiamo avanti sti cazzo no no e siccome ho buttato un secondo l'occhio sulla chat anzi due volte tutte e due volte cagava il cazzo direi che è venuto il giorno e venne e venne il giorno anche per serpentello purtroppo ogni tanto se banna poco in ogni caso le date importanti i messaggi da riccardo per provare a farlo bannare immagino sono dell'otto maggio questo questo messaggio è del dieci quindi Matteo due giorni dopo scrive mi hanno bannato porco di quel dio ok dopodiché apri l'immagine che trovi tu dici ma potete essere certi e sicuri apri 05 per favore arriva subito vediamo vediamo come su 04 vediamo come viene visualizzato oggi da slash user vedendo il log perché oggi ovviamente apparirà non come The Real Matteo Saba come abbiamo in quel vecchio log qui vediamo aspettate che provo a zoomare perché qua non me lo fa zoomare comunque vabbè questo è il messaggio ok questo è il messaggio no no ingrandisci subito dai ma intanto è il messaggio di prima ah dici perché se non ci fidassimo devi far vedere eh sì vabbè avviciniamo è vero potremmo lasciare dubbi non lasciamo dubbi non lasciamo dubbi ok questo è il messaggio di cui abbiamo parlato sia il cerbero che qua abbiamo parlato di quel giro ripetiamo perché in un log c'è il vecchio nick ovvero il nick che aveva effettivamente all'epoca e se uno lo cerca oggi legge The President Club per smentire chi dovesse dire eh ma è impossibile perché all'epoca non si chiamava The President Club come vedremo anche fra poco in diretta lo farà Widealf sulla sulla sua chat io lo farò per la chat ad esempio di Sickman c'è un piccolo slash user sì facciamo un po' di slash user e ridiamo un po' ci divertiamo è il dessert questo ve l'ho detto però la questione la questione la questione la questione è che nel momento in cui il nick è cambiato anche i messaggi precedenti nel log di moderazione risultano con l'ultimo nick e ognuno su twitch può cambiare nome una volta ogni due mesi salvo casi particolari ok ora è stato bannato Matteo Saba per quelle cose di Riccardo o per altro e in che data apri quella bellissima zero eccolo qua adesso lo faccio vedere in realtà allora allora io mi scuso per il senso la disorganizzazione è data dal fatto che abbiamo fatto tutto da ieri sera ad oggi e io chiaramente la live vai 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 di pure allora ragazzi semplicemente la live come avevamo annunciato ieri come avevamo annunciato ieri la live era prevista per le 18 e 30 tuttavia siccome ieri abbiamo chiuso il cerbero podcast per i 5 paesi no no ci vogliono comprare come abbiamo detto ieri 18 e 30 siccome come è stato detto anche dal cerbero su sta cosa qui è un lavoro collettivo ok quindi sono diciamo due team teoricamente indipendenti il che è anche molto bello perché così non si ha neanche un bias cognitivo nel tipo di ricerca che fai però si uniscono le forze e a un certo punto chiudendo il cerchio e chiudendolo molto bene perché quando ieri pomeriggio troviamo la quadra in realtà poi sono arrivate informazioni in più che non sono informazioni che non avevamo sono conferme incontestabili che quello che abbiamo trovato è effettivamente vero che abbiamo chiuso il cerchio e che il caso è risolto e che Matteo lo dico con una goduria che non immaginate è bannato è bannato non potrà mettere piede sulla piattaforma se lo staff di Twitch ora si rende conto che sta eludendo il ban da mesi mesi e mesi non può fare altro che bannarlo ancora una volta a tempo indeterminato come merita esatto quello che volevo dire sulla parte organizzativa io solitamente dal insomma prima chiaramente mi collego al cerbero per rubargli il contenuto poi quando ho capito che il contenuto porta al cerbero mi vado a cercare tutti i link che ha portato il cerbero e li riporto anche io alle 18 quindi capite che oggi non ho avuto questo tempo per organizzarmi e purtroppo per finire lo spiegone anche perché noi eravamo presenti al cerbero perché loro hanno scelto di omettere Marra di quello che stiamo parlando ovviamente sa tutto ok che abbiamo lavorato insieme però abbiamo deciso ok prima parte quella dove si spiega il fatto che Matteo Saba è bannato trattiamo lì e ovviamente per completezza la parte dove si mostrano le prove la facciamo ora certo di tutto perché perché a Marra io ho detto ma voi guarda abbiamo delle cose poi per favore chiedere se conosci qualcuno mi dice si conosco Rise chiedo a Rise da Omiatol abbiamo le conferme però siamo già praticamente certi ok perché prima di aprire bocca di solito controllo bene le cose e io dico guarda noi comunque domani abbiamo già annunciato la live alle 18.30 adesso voglio rispondere solo a una cosa poi dopo finisci poi rispondo voi che fate live alle 21 e Marra all'inizio dice vabbè ma non ti preoccupa fatela voi oppure dico magari la facciamo un'altra volta pure boh condiviso abbiamo avuto poco tempo diciamo così avevamo pure mille dubbi tipo eh ma se facciamo la live in team che si può fare visto che anche Wedalf è ora partner se facciamo così sembra che ci vogliamo ciulare tutti gli spec anche quelli che non vorrebbero eccetera eccetera alla fine Marra dice no vabbè portatelo voi poi noi riprenderemo la notizia e alla fine abbiamo detto no è ingiusto nel senso che abbiamo lavorato insieme le conferme di RISE sono utilissimi proprio a livello visivo ok quindi facciamo questa modalità ma poi guarda si parte dal cerbero e si continua Palle ieri sera mi ha chiesto ma tu cosa vuoi fare vuoi che lo portiamo solo noi o ti piace l'idea di portarlo al cerbero io ovviamente egoisticamente avrei potuto dire no me la porto io però sinceramente siccome appunto c'è un grosso lavoro anche da parte del cerbero c'è un grosso lavoro di palle eccetera abbiamo detto uniamo le forze per una volta e portiamo insieme ci dividiamo la live ovviamente la polpa è stata trattata dal cerbero qui ripeto tutta la parte prima che molti dicevano non capiscono non capiscono semplicemente abbiamo rifatto vedere le varie cronologicamente i vari cambi di account di Matteo facendovi vedere che da Matteo Trattobasso Saba poi è passato The Real Matteo Saba ormai ragazzi con i nickname messo veramente a mangiare il cervello però comunque c'è stato un altro cambio per poi arrivare a The President Club dopo il ban dell'altro account tutto qui abbiamo solo ricostruito quello che avete già visto dal cerbero ok qui siamo nel canale dell'epigono quindi ovviamente l'organizzazione non è quella del cerbero e poi appunto adesso vi aggiungeremo alcuni particolari per darvi la riprova se non bastasse che Matteo Saba ma tanto ripeto a noi quello che importa è che Twitch prenda conoscenza di queste cose abbia la conoscenza di queste cose e che prenda provvedimenti ok punto come abbiamo sempre fatto sia per il subgate per il botgate insomma è sempre quello discorso queste inchieste sono sempre poi volte al fatto che Twitch prenda cognizione di quello che succede sulla piattaforma tutto qua poi ripeto tanto avete visto la live del cerbero che vuole rimanere rimane ragazzi lo staff di Twitch comunque ma come di tante altre piattaforme è limitato e i moderatori sono esseri umani ok quindi ci sta che non se ne siano accorti ora io spero come è successo altre volte come è successo per il cartello come è successo dopo il chiarimento dopo i numeri delle sub di Joker lo staff ha preso provvedimenti e ci auguriamo lo facciamo anche questa volta però la notizia la notizia di oggi cioè Matteo Sabba è bannato e specifico se ci deve essere confusione non da un canale non da una chat dalla piattaforma a tempo indeterminato cosa che chiunque di voi può verificare andate a scrivere fate finta di andare nella parte creator del vostro canale perché ognuno di voi ha un canale Twitch in realtà nel momento in cui è l'account esatto volete andare nella vostra chat user Matteo tratto basso Sabba vi esce la sua schermantina e vi dice che è scospeso a tempo indeterminato per violazione il TOS ma se tu apri proprio il bot c'è la foto col bot che ci ha fornito appunto le condizioni esatto ban a tempo indefinito che il permaban sappiamo bene che non esiste è un po' un meme diciamo che esiste il ban a tempo indeterminato che per esempio prendiamo Sdrumox che è sempre l'esempio più calzante tipo Sdrumox cioè che in realtà Sdrumox potenzialmente potrebbe anche essere sbannato e poi ti dice anche quanti giorni eccetera eccetera da quanti giorni ok ringrazio tutti per la sabra scusate se non vi faccio come Marra vi faccio anzi io di solito facevo così quando facciamo FSF comunque stavo rispondendo a una domanda che avete fatto molto in chat allora se tu inizi su Twitch come utente ok e vieni bannato come utente Twitch a tempo indeterminato esattamente come non puoi fare un altro account ok non puoi cioè non puoi creare un altro account e ritornare sulla piattaforma finché non ti sbandano allo stesso modo ancora di più non puoi iniziare a fare live cioè non puoi creare un altro account far finta di niente e fare un altro live quindi questa è in risposta a alcune ho visto che molti facevano questa domanda qua ok quindi è questo discorso ovviamente cioè è un motivo in più cioè se sei bannato come utente ancora di più come streamer per cui in risposta questa domanda è questa assolutamente Matteo Saba non avrebbe potuto mai iniziare a streammare questo discorso certo se uno fa un multi account e va a scrivere in chat se non è uno streamer è chiaro che passa meno inosservato perché ovviamente è un altro utente cambi il nome difficile che ti sgamino ok è più difficile che ti sgamino anche se io so di tante storie di gente che si è fatta sgamare quindi tutto lì tutto lì quello è il discorso è molto semplice ragazzi forse abbiamo no abbiamo semplicemente parlando tanto magari uno sembra che le cose se ne parli ma in realtà è molto semplice quello che abbiamo detto prima con Palle Uomo è l'obiettivo di queste due live cioè capire alla piattaforma rendere fargli rendere conto che Matteo Saba è bannato punto fine questo è il fine ultimo ok ok allora e ripeto nessuno nessuno dice che oh che grande perché forse le uniche persone che potevo dirlo era chi già lo conosceva come Matteo Trattobasso Saba però magari queste persone non sapevano di essere una bann perché anche lui che scrive sono bannato ok magari è un bann non definitivo sta eludendo un bann di un'ora un giorno una settimana ok e si può chiudere un occhio dice vabbè dai sti cazzi ma lui sta parlando di un ban a livello indefinito un perma ban esatto e lo ammette per chi se lo fosse perso lui con il nuovo account che oggi si chiama The President Club ammette di essere stato bannato mostra di nuovo quella cosa del bot perché dice la data dice da quanto tempo e ti dà la data 8 maggio 8 maggio quindi facendolo oggi quindi ad oggi ovviamente ragazzi questo qui in realtà non è ad oggi è a ieri quindi oggi saranno 261 giorni esattamente però avete lui dalle 22 e 44 diciamo dalle 22 e 45 dell'8 maggio 2022 qualunque cosa lui abbia fatto come utente su Twitch che non sia semplicemente collegarsi al canale sloggato essenzialmente e guardare la live da non loggato cosa che si può fare se non ha meno di live particolari qualunque cosa lui abbia fatto sulla piattaforma va contro il regolamento ed è indovina qual è la sanzione per chi elude il ban dalla piattaforma il ban il ban ovvio di questa quindi ci aspettiamo che in questi giorni avvenga quello che deve avvenire diciamo così qualcuno scriveva ma se Matteo non fosse quel Matteo ragazzi riguardate il live del cerbero e abbiamo fatto vedere le cose apposta per cui possiamo fare un po' il wide half storico cioè che si fa quando la gente viene bannata cioè che facevamo di solito quando eravamo particolarmente non dispiaciuti per alcuni ban mi pare si godesse se non sbaglio ah ok perché noi siamo gli stessi non farò il godo 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 perché sennò poi vengo chiaramente epigonato quindi non farò il godo godo però godiamo assolutamente quello è quello che è quello che esce fuori no poi appunto il discorso è che appunto questa live del cer perché a grandi linee la maggioranza delle cose le abbiamo trattate nella live del cerbero però per esempio abbiamo ricevuto io e palle un video quello che vi ha letto solo Marra durante la live del cerbero di social boom perché abbiamo ancora qualche novità adesso io ve lo devo me lo devo scaricare dove me l'avevi mandato adesso ve lo facciamo vedere non so se c'è social in chat ma penso che come l'ha mandato Marra sia d'accordo anche che lo guardiamo da noi ha detto di sì poi al massimo social non puoi relarmi non puoi relarci ti prego social dove me l'avevi mandato su telegram su whatsapp no forse su whatsapp me l'avevi mandato vero su whatsapp su whatsapp allora datemi un secondo solo che lo scarico e ve lo faccio vedere Marra prima l'ha letto adesso ve lo facciamo anche vedere ok righe da oggi si è diventato maggiorenne ma in realtà è da un po' eh che sono maggiorenne diciamo su twitch dai su twitch si sono diventato maggiorenne allora in realtà lo posso anche aprire da qua tanto si legge una cosa no dai non si legge nulla lo faccio vedere da qua palle mi autorizzi che dalla nostra chat a scarico ma perché mi racconto sei scarico una stream ragazzi lasciatela live aspetta che c'è lo spoiler dai lo scarichiamo lo scarichiamo e lo scarichiamo così palle uomo che io e palle uomo ci mandiamo anche qualche nudino aspetta per chiarezza sopra ci sono dei messaggi audio quindi non si leggerebbe un cazzo di nulla ma non vedo il motivo di non scaricarlo in maniera decente esatto va bene l'abbiamo scaricato ve lo faccio vedere ragazzi ve lo faccio vedere ma perché c'è questa lite di merda scusatemi infatti mi tocca un attimo se vede anche oh oh no così è troppo non so vabbè adesso non mi metto a smanettare troppo va bene comunque questo è il video di cui si parlava prima dal cerbero ok questo è il slog della moderazione che riporta anche tutti i messaggi però di Fajon non di Social Boom giusto? di Fajon di Fajon ok allora leggiamo tanto il video in realtà è solo per fargli vedere a marra mi hanno bannato e qui non c'è la data ovviamente quindi abbiamo solo un orario no c'è scritto 10 maggio 10 maggio lo stesso giorno scusate non l'avevo visto il 10 maggio mi hanno bannato quel bastardo di Mugnano mi ha fatto bannare sì per incitamento all'odio quindi qui abbiamo una riprova adesso se non bastasse se non bastasse quella che abbiamo tra l'altro ragazzi potete scrinnare questa cosa c'è chi è che sa stampare sa stampare bene potrei essere interessato a una stampa artistica di questo screen anche in prospettiva quindi si può fare pure un modello così ora che ho imbiancato tutte le pareti di casa posso anche appendere un bel poster l'altro incredibile come Riccardo anche questa volta è un eroe è incredibile fa parque grazie anche a lui che abbiamo la sua insaputa la sua insaputa è una vittima è una vittima assolutamente una vittima un tizio semplicemente poi diceva beh non è ossessionato ripeto dal tipo di interazione si direbbe qualcosa di diverso ma non sono un esperto è attenzione una mia opinione tuttavia io voglio dire anche ricordare che chiunque di voi dovesse vedere il presidente in giro soprattutto sugli altri canali avvisate gli altri streamer che stanno ospitando un personaggio che è bannato eludendo il ban perché magari poi rischiano anche gli altri streamer no no però questa è una riprova insomma se non vi fosse bastato quello che abbiamo fatto vedere prima che The President Club ha scritto in chat Daffaion mi hanno bannato quel bastardo di Mugnano mi ha fatto bannare per incitamento all'odo qui addirittura dice anche il motivo del ban più di questo che vi dobbiamo dare ragazzi è una confessione è una confessione le date tornano fosse questo messaggio del 7 non avrebbe senso perché quei messaggi da Liccardo sono dell'8 dell'8 esatto aspetta no chiedo conferma la live di Liccardo era 8 maggio o altra data credo di sì è dell'8 maggio perché abbiamo visto rimetti il bot dice proprio 8 maggio ok poi il bello quando uno quando uno ha un criterio e ha un'onestà intellettuale sorgono sti dubbi io in questo momento nel mio cervello diciamo cazzo ma non è che ho detto una data sbagliata quindi chiedo conferma vado a controllare come si dice le persone diciamo che fanno bene il loro lavoro di solito su quelle che si pongono delle domande hanno paura di dire una cosa sbagliata dicono si vabbè ma che cazzo c'entra dai te potevo di 7 non aveva 3 account allo stesso tempo scusatemi precisiamo perché capisco che qui ci può ecco qua ci può essere della confusione l'abbiamo spiegato prima vabbè lo rispiegiamo allora primo account Matteo Trattobasso Saba ok a un certo punto viene bannato perché ha scritto appunto ban a tempo indefinito allora lui crea il secondo account che è TheRealMatteoSaba o Trattobasso comunque 0-1 una roba del genere a un certo punto c'è il cambio di nome ok quindi lui ha creato in realtà ha fatto un multi-account diciamo così ok tutto corretto Palle Uomo non ho sbagliato giusto? mi conferma quello che ha detto se ne ha altri 7 io non lo so diciamo noi parliamo di quella nostra conoscenza possiamo dire che The President Club prima si chiamava TheRealMatteoSaba Trattobasso 1 esattamente esattamente e l'abbiamo visto in live dal Cerbero che a un certo punto l'ha fatto vedere Marra ripeto ovviamente questa live è successiva quindi recuperatevi anche quella del Cerbero proprio all'inizio l'abbiamo fatto vedere Marra scorreva che da TheRealMatteoSaba 0-1 diventa diventa a un certo punto The President Club ok molto semplice ragazzi capisco che tutti questi account però in realtà di quelli che noi siamo a conoscenza gli account sono due ok il primo Matteo Trattobasso Saba che viene bannato a tempo indeterminato perma bannato diciamolo come volete voi e poi dopo il secondo account che viene creato successivamente al ban ok molto semplice molto semplice quindi questa è la ricostruzione ragazzi che abbiamo fatto cos'altro abbiamo Palle Uomo che io appunto abbiamo abbiamo ora un po' poi dopo magari giochiamo un po' slash user per leggere io ho qualche qualche messaggio tra l'altro ecco io non so se c'è Sikmene se magari poi vuole entrare perché su una cosa magari può fare da testimone soprattutto confermare io non sono cioè sono stato ieri messo moderatore da Sik ma per uno scopo dopo oggi tornerò a non esserlo e ringrazio Sikmene per la collaborazione ripeto che non hanno a seguire in realtà sono felice ecco posso dire una cosa perché anche il presidente secondo me è un'idea che si è ispirata al nick con cui affettuosamente abbiamo chiamato Sikmene per tutto un periodo Cerbero su Whatsapp aspettate un attimo Cerbero su Whatsapp no Marra non mi ha scritto ah ma queste sono questo è il mio gruppo ah è un meme no non è un meme questo che mi ha mandato Marra me l'avrei fatto vedere dopo comunque adesso lo facciamo vedere me l'ha mandato un palle ombra in realtà ma in realtà è un wide ombra questo perché è più mio che di palle ah non è di nessuno è una persona libera vabbè sì ovviamente un collaboratore di giustizia quello che mi ha mandato Marra adesso ve lo faccio vedere adesso ve lo faccio vedere sono in realtà sono altre chicchette altre chicchette di Matosaba questa volta sul mio gruppo cosa vuole? aspettate salve sono palle uomo e quando wide alf non è professionale sono qui a parlarvi potete chiedere quello che volete e probabilmente non risponderò che sto anch'io bravo palle poi se vuoi entrare sì che ci facciamo un po' ci divertiamo un po' con lo slash user nel tuo canale con Matteo Saba comunque dai facciamo vedere le cose che ci hanno mandato Marra aspetta un attimo che switcho così e anche queste me ne salvo sono in continuo aggiornamento ragazzi il bello della diretta allora che sono roba che appunto mi aveva già mandato anche un nostro collaboratore posso dire questa parola anche io ti ho mandato una cosa che me lo ah allora aspetta da pro whatsapps hai già fatto si anche perché poi ti ho mandato un'altra cosa questo era lo screen di Thomas McHorick credo credo dove praticamente in questa cosa quando lo farei vedere è un altro esempio però l'ha fatto vedere pure Marra prima se non so non ricordo neanche a certo punto sono una piscia questi sono nel mio gruppo telegram in realtà quando Matteo ancora stava nel mio gruppo telegram allora vi faccio schiattare tutti i poveretti del web vabbè è un'espressione colorita schiattare sì sì ovvio poi ma i messaggi ma i messaggi fu ma i messaggi fu più pensato scusate non so più leggere la verità è che certi soggetti sono più falliti di Liccardo fatevi una vita porca madonna sfigati come Liccardo Rosario rimane quello che sappiamo come sappiamo tutti molti di voi sono pure peggio vi meritate no come vi meritate il Pippe ma si fa realizzato no ma povero Pippo pure Pippe no posso dire una cosa senza ironia povero Pippo ma davvero stavolta lo possiamo dire veramente perché anche lui è finito nelle grinfie di quest'uomo tutto il cazzo così come poveri tante persone hai capito anzi anzi io spero che dopo sta notizia molti troveranno insomma la tranquillità per poter raccontare certo oltre che dalla piattaforma ci lascia in pace abbandone il web come quello che auspicava lui alle persone negative del web certo Matteo Saba tu da oggi da oggi sei di diritto di diritto un personaggio non positivo del web appilo ma è diventato ciò che dicevi di voler combattere esatto posso spingermi oltre e dire che e lo dico e lo dico prendendo causa anche del fatto che ci ho fatto un un un'indagine ci ho fatto un'inchiesta sul sui gruppi di carte pokemon di riccardo quel capetto da grimbaud non importa gliel'ho perdonato riccardo non importa però comunque non è sicuramente meglio di riccardo anzi anzi voglio dirlo davanti davanti a tutta duicidalia posso dirlo tranquillamente che riccardo perlomeno ma questo l'ho già detto in un'altra live perlomeno riccardo quando ha dovuto fare un passo indietro l'ha fatto poi ovviamente questo non lo giustifica in tutte le cazzate che ha fatto questo non giustifica il fatto che abbia come dice lui uso la suo termine scammato su gruppi di carte pokemon dei ragazzi che fortunatamente gli sono stati restituiti i soldi grazie al fratello alla famiglia di riccardo e grazie anche un po' a me che mi sono messo in contatto un po' di merito me lo voglio prendere anche io che bravo piantina sta crescendo bene figlio però riccardo te la devi giocare con Marro se te ne fossi accorto prima se te ne fossi accorto prima io visto che in chat ti prego ti prego in questo ennesimo capitolo fa un bravo si si come l'ho pronunciato un po' ma fa un bravo ma per adesso per adesso avrai anche tu tante stanze da imbiancare credo come le ho imbiancate io in questi giorni io sono ecco vedete questo è mistificare le mie parole io sono continuo a pensare che a Liccardo non faccia bene il web e io lo dico è qua in chat io direi pure su discord io continuo a dire a pensare che secondo me Liccardo non fa bene il web però io chi sono per poterglielo impedire ragazzi posso pensarlo posso ok ok scrinnate scrinnate questa cosa oppure mettete la video che è meglio 24 0 1 2023 Liccardo dice non accadrà più nulla guarda lo stai promettendo a palle uomo occhio certo certo ragazzi le parole hanno un significato io ho detto che confronto a Matteo Liccardo è quasi sembra quasi la figura Benin poi ovviamente ha fatto le sue cazzate e ripeto io sono il primo ragazzi l'inchiesta sulle carte pokemon l'ho portata io i ragazzi li ho sentiti io e molti di loro erano incazzati neri alcuni addirittura lo vado a cioè qualcuno si era spinto anche a dire lo vado gli mando lettere cose erano veramente arrabbiati ovviamente se ti scambiano più di 500 euro non è che puoi essere felice perché uno dei 4-5 aveva messo una bella sommetta però questo ripeto il fatto che Liccardo sappia comunque fare un passo indietro secondo me lo qualifica sicuramente un gradino sopra Matteo poi ovviamente ognuno di loro ognuno di noi ognuno di loro fa le proprie cazzate e ne paga le conseguenze e quindi boh tutto qui non l'ho fatto nessun indietro ovviamente se il mio fratello Dave volesse entrare è benvenuto ovvio ragazzi anche prima c'era Flame che vuole entrare Flame è solo il desiderio in realtà esatto guarda in realtà io non so che alcune persone non si vogliono esporre ma chiunque insomma abbia subito può anche entrare perché questo è il momento dove dopo la denuncia dopo aver appurato in maniera che non lascia alcun dubbio e chi dice il contrario e qualcuno l'ho letto in chat mi dispiace potete convincere però diventa religione poi diventa religione uno si può convincere di una cosa ma non cambierà la realtà dei fatti mentre alcune cose non sono dimostrabili altre si e le abbiamo dimostrate punto ovvio va bene comunque metti il contributo video no no volevo far vedere ancora le chat insomma che mi aveva mandato Marra che in realtà mi aveva mandato anche a me durante la live del Cerbero mandate al mare e fatevi una sana scopata come disse Lup Genetico e Valentina disse ci penso io non vi preoccupate io faccio un po' più di fatica col culo ma tu sei un povero che vuoi fare da me anzi torna a spaccare le pietre vabbè insomma avete il fegato che detona ogni giorno poverelli mi piace vedervi scattare di gelosia ah di gelosia era vabbè allora tutto a posto pensavo fosse pensavo fosse scattare un altro voleva scattare di gelosia per sentirmi realizzato rido ah 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 beh vabbè comunque io non cerco consenso ho già tutto questo fa ridere ragazzi che mi serve il bagno di dare la vita in Sardegna muoviti che mi serve il cazzo sempre a parlare degli altri sempre a parlare degli altri mamma mia questo anche torna lei torna solo con il nome degli altri esatto lei torna a cercare consenso dai ragazzi di Twitch io non cerco consenso ho già tutto questo fa ridere bisogna bisogna essere onesti che lui non cercasse consensi va bene vabbè comunque questa era cosa c'è ce n'è forse ancora uno vabbè c'è anche un altro screen che è quello di Thomas McCorrig va bene scusate se lo pronuncio male però essenzialmente era un'altra storia di Saba dove lo stava da casa e poi insomma parlava della madre non lo so va bene va bene comunque ah no quello tuo scusami aspettate stavo chiudendo un po' di roba aspetta che lo riprendo questo è bellissimo è bellissimo aspettate un attimo ma perché scriveva il solito coglione del cazzo che schifo di persona un buffone assurdo cosa non lo so dove è credo no era la chat si era era la chat non so perché mi hanno colpito quelle parole che scriveva Matteo Saba chissà qualcuno le potrebbe riutilizzare mentalmente in quest'istante mentre sorride ah questa questa me la ricordo questa me la ricordo ragazzi questa me la ricordo quando vi affidate a un cialtrone fuffaguro tipo Thomas chiedetene anche dove vivevi in Italia si io novembre qui qui chiaramente ci vediamo torno subito aspetta un attimo cioè per il video aspetta un attimo torno subito ad apprendere del mate vabbè qui è il classico doxing di Matteo Saba niente di nuovo abbiamo visto dal Cerbero prima Anima vuole parlare e magari Anima adesso usciranno tutti ragazzi ma usciranno tutti perché è così ora 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 c'è il via libera però io direi che l'abbiamo sepolta a sufficienza a livello mediatico ovviamente si parla fai vedere il video un attimo un attimo che torno a parla adesso vi facciamo vedere tutto comunque ragazzi appunto io spero abbiate capito che il nostro non era intento di fare una live per appunto rosicare una carogna ma semplicemente siccome il signor Matteo come abbiamo visto nell'intro del Cerbero l'ho messo anche io nell'intro voleva che parlassimo di quello che fa su Twitch oggi vi abbiamo parlato di quello che va su Twitch ed era ed era proprio questo cioè un personaggio che io tra l'altro molte cose me le ricordavo perché comunque molte delle cose che sto vedendo anche questa storia di Macor c'è un sacco di cose che io ho ripescato la memoria facendo questa questa inchiesta insieme al Cerbero a palla eccetera perché perché non è che però passavano più inosservate perché il personaggio come ho già detto tante volte appariva nel lato degli Avengers non dei Villain capito e quindi uno magari alcune cose passavano un po' sottotono ora quando un po' come si diceva dal Cerbero rivedendolo col sendo di Po rivedendolo con gli occhi di oggi minchia c'è un mondo sommerso incredibile perché se vogliamo parlare forse era meglio se vogliamo dire la verità Matteo forse sarebbe stato meglio rimanere su quello che riguardava i tribunali eccetera perché guardare quello che hai fatto su Twitch è forse peggio e so che palle adesso non gli è piaciuta però io invece farle vedere in realtà palle non voleva se volete indagare sulla veridicità meno dei rapporti con Montezempo dovete chiedere a Roberto Chinchero giornalista oh cazzo aspetta va bene dai ci formeremo nei prossimi giorni va bene grazie scrivevelo in privato ragazzi direi che non vi voglio leggere in chat direi che già faccio difficoltà con 300 persone a volte figurati oggi torno al discorso scusate mi stavo dicendo che forse era meglio rimanere fuori da Twitch perché su Twitch è veramente uno schifo e quello che è successo oggi su Instagram ancora una volta ci fa vedere quel che è Matteo Saba addirittura strumentalizzare strumentalizzare la figura di Alessio tra l'altro dicendo il giorno che non è oggi è un altro giorno cioè è veramente uno schifo oggi al più sarebbe stato il compleanno il compleanno e ribadisco ribadisco vergognati Matteo Saba certo certo perché questo è veramente dopo che la famiglia già una volta ha chiesto di più di una esatto di di non per favore utilizzare più il suo nome anche perché cosa c'entra sto povero ragazzo cosa c'entra sto povero ragazzo con questa storia qua andiamo avanti guarda io meno ci penso alla reazione era per rimarcare era per rimarcare siamo di fronte alla disperazione di chissà che a quel punto è stato sgamato punto stop poi chi ci vuole credere faccia noi ci aspettavamo c'è un'esposizione di Matteo oggi nelle storie ci aspettavamo altro sinceramente perché ecco questa di Alessio non ce l'aspettavamo però ci aspettavamo sicuramente che ci ha sorpreso in negativo di sicuro ci ha fatto che no aspettavamo una risposta alla presidente di quelle è tutto falso è tutto falso ma questo non lo potrà dire questa volta perché davanti a delle prove evidenti come queste voglio vedere se stavolta la prescrizione il primo grado il secondo grado qua stiamo parlando di Twitch ragazzi questo è il tribunale di Twitch non il tribunale su Twitch al massimo questo è il tribunale di Twitch grazie per i mille Rap grazie mille ha scritto Matteo Sabba non ha ovviamente 4 Ferrari è un finto ricco viaggia con i soldi delle truffe vendendo il pacchetto allora io ho detto Rap questo non lo sappiamo esatto questo non lo sappiamo a noi non ci interessa neanche sinceramente sembrerebbe che effettivamente tante cose che ha detto sono false ma ormai non mi stupisco più però io direi di andare a rievocare un po' un Matteo del passato a proposito di cose false dette certo cosa vuoi vedere cosa gradisci il contributo video il contributo video perché tra l'altro sarà particolarmente divertente e ripeto non per lo streamer che lo sta ospitando in quel frangente che è il Pipega contestualizziamo questo avviene dopo lo scontro tra virgolette o comunque il mio primo fantastico incontro e la mia prima di due in realtà io ho parlato con Matteo Sabba due volte sempre in live dopo la live di Luke Genetico dove insomma credo che ormai l'abbiano visto quasi tutti si incazzava perché gli chiedevo ma tu come ti chiami the real o the official Matteo Sabba questo è stato il mio crimine evidenziavo come insomma aveva sbagliato a scrivere anche il nome dello studio legale con cui avrebbe dovuto e cito fare il culo a livello legale a Fabio perché all'inizio ce l'aveva solo con Fabio il Luke Genetico abbiamo passato il pitch anche di Roberto Chichiero comunque nei prossimi giorni guarderemo guarderemo ragazzi non vi preoccupate non vi preoccupate scusami palle cosa si fagga palle tutto tutto a posto scusami no stavo controllando io ogni tanto faccio refresh su una pagina perché se dovessi leggere l'utente sospeso o bannato darei la notizia in live ah ok 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 vogliamo questa esclusiva comunque 100% io ho 100% di casi è vero è vero ragazzi io ho preso la partner con palle uomo questo è da dirlo al primo tentativo con palle uomo quindi assolutamente ve lo consiglio se siete streamer rivolgetevi a palle uomo no al momento non pianifico di seguire altri però chissà chissà va bene questo è come nasce il milling comunque guardiamoci sto video te lo streamo magari palle te lo streamo se no non hai allora cambia non posso seguire comunque il contesto era il giorno dopo mi pare o comunque se non è il giorno dopo poco ci manca la data si può trovare su twitch tracker discute c'è il ppega che all'epoca portava il drama club il ppega tv sì e in questa storia lo dico anche chat cioè nel senso lui chiama ospita Matteo per fargli dire la sua su una questione lui stava commentando il freebooting di cosa era successo da loop e da loop c'era Fabio Valentina il genetico wide half io e Matteo Saba ok quindi il ppega finisce la sua reaction Matteo Saba entra per commentare dire la sua purtroppo non si è limitato a commentare la vicenda circa se era vero o non vero la roba della holding eccetera ma ci offre un divertente scambio però vediamo un po' che era successo anche per fare questo credo che molti non l'hanno mai visto se quella live lì invece in realtà ce n'era di spettatori magari erano circa 600 spettatori questo ripeto si può andare a controllare però di chi è inciato ora molti non l'avranno vista certo andiamo a vedere all'inizio c'è un po' di schermo nero ma poi parte crometto di minuti ok mi sembra esattamente la stessa pagina se non erro ho un po' di minuti però devo andare a Wembley con i clienti vai vai entra pure entra pure così ce lo spieghi però non insultare per l'amor del signore che poi dicono che ti do spazio a insultare non voglio insultare nessuno bello mio qui era era ancora The Real ciao Matteo buongiorno esatto qui abbiamo ancora un The Real non è ancora presidente qua non è ancora stato eletto ragazzi non è ancora stato eletto in realtà doveva essere l'ultima quella di oggi però purtroppo non riesco a no non hai capito ti sei infilato in un tunnel sono cazzi tuoi sono cazzi tuoi adesso ho qualche minuto perché tra un po' devo andare a Wembley tranquillo giustamente allora no molto velocemente allora lui cosa ha fatto praticamente dato che la gente non conosce determinati tecnicismi si è inventato che ha ricevuto delle prove inconfutabili sul mio conto ai che cosa ha fatto questo cretino qua l'esodato Matteo per piacere ti prego abbi pazienza hai ragione gliel'ha appena detto il cretino praticamente il cretino cosa ha fatto ha mostrato due link uno della camera di commercio UK che è quello che ti ho mandato poi mettilo anche in chat senza problemi e poi l'altro è quello è quello di opencorporates.com che è un sito anche quello un aggregatore di dati dove praticamente puoi vedere oltre le società europee anche società non di diritto europeo per cui quella non è nessuna nessuna prova sono semplicemente dei siti aspetta che chiediamo un dubbio che effettivamente dal cerbero lo dobbiamo dire non è stato detto scrive oh Dio non trovo più ah Dragoners dice l'account di Ria Matteo Saba quindi anche del President Club è stato creato prima del ban ok ed è il 2 aprile 2022 ora ripetiamo cose che abbiamo già detto in passato avere più account su Twitch è consentito il multi account è consentito se non si è bernardi lo puoi fare cioè io potrei per spiegarvi aprire no no scusa mi dico solo potrei prendere un esempio come me potrei aprire un canale che lo chiamo wide half musica dove suona solo il sax per dire tanto il mio account principale diciamo così non è bannato io lo posso lo posso crearne un altro magari se mi bannano il primo però no ok noi non sappiamo e onestamente neanche mi importa saperlo perché abbia deciso di aprire un altro account chiamato TheRial so che il nome coincide con l'account suo su Instagram quindi potrei ipotizzare però è una ipotesi che forse considerasse già l'idea di entrare nel modello web in maniera attiva con lo stesso nome che il suo nome di Instagram poi è stato suggerito a un certo punto quando ha effettivamente deciso di iniziare a streammare un rebranding quindi ha cambiato il nome utente e per farlo devono passare due mesi quindi anche questo torna un po' tutto perché la roba di loop era fine maggio inizio giugno ok e lui ha cominciato a streammare ad agosto se non sbaglio se dico cose inesatte correggetemi se non sbaglio se non ricordo male dice Rice era stato bannato da Riccardo con l'account Matteo Saba può anche essere che abbia creato un altro account per leggere e scrivere in chat guarda allora io direi al palle ombra numero uno perché noi li chiamiamo con i numeri direi direi di controllare la prima volta che con The Real scrive perché era una cosa che avevo ma non ho sotto mano ora quindi per spiegare che in realtà chiunque di voi può avere più account ok è legale mi sembra giusto adesso poi lo mettiamo ad honorem non so quanto guarda guarda io ragazzi anche 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 chi non volesse seguire il resto della live oggi 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 alle 21 oggi alle 21 c'è un bel contributo di Rise il video di Rise che è secondo me un capolavoro oltre ad essere molto molto preciso ed esaustivo quindi chi ha ancora dei dubbi magari se non si fida di Wide Half Palle Uomo Davide Marra e chiunque abbia dato informazioni oggi adesso ti leggo l'ho visto e scusate ve l'ho detto ragazzi è complicato non sono non sono il cerebro podcast io perdonatevi perdonatevi adesso le guardo non sappiamo neanche il nome originale credo Dave in realtà che sia da sempre The Real però c'è nel senso che da da aprile ad agosto sono sono quattro mesi però lui ha iniziato a streamare come The President a metà agosto quindi non dal 22 agosto secondo me ha avuto solo un cambio nome quel account esatto come dice Arev di solito faccio 20 spec non sono abituato ha ragione si ma Arev dai mi dispiace che hai perso un VIP ciao comunque no 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 ma Arev ha ragione cioè nel senso che io ho preso la media partner è 20 quindi ho preso la partner con 20 spec ha ragione no scusate non volevo interrompere il discorso vabbè sti cazzi ciao Arev comunque volevo dire quindi chiunque di voi può avere più account però nel momento in cui siete bannati non è consentito usare gli altri e ovviamente non è consentito crearne un altro per eludere il ban come diciamo anche dal cerebro ci sono due tipi di elusione se ad esempio per dire ora Serpentello che è stato bannato durante questa live e la cosa in realtà non mi fa dispiacere se Serpentello ora decidesse di farsi un altro account per entrare in questa chat qui potrebbe essere segnalato per elusione dal ban del canale della chat del canale ok ma Serpentello se si crea un altro account con quell'account non può entrare qui ma se entra da qualche altra parte può farlo perché non è bannato dalla piattaforma bensì da un singolo canale direi che è abbastanza chiaro possiamo andare avanti leggo solo Lennard che scrive una cosa importante per me visto che questo soffetto è riuscito a insinuarsi nel mondo del calcio ed addirittura ottenere partner e avvisare ottenere partner ah ok sono rimasto un attimo confuso e avvisare il mondo del calcio sul soggetto affinché nessuno possa collaborare con tale persona ma neanche mostrare la live non sarebbe poco vabbè ma io penso che piano piano secondo me la voce la voce gira da sola comunque ho detto un'inesattezza perché mi facevo confusione con la live la live chiarimento col Pipega era a metà agosto seconda metà di agosto lui ha iniziato a streamare a luglio grazie a dragons che l'ha scritto la prima stream è stata a luglio ok e in effetti ha senso perché il litigio col Pipega chiunce tutti gli altri è successivo ma sei già sponsor del calcio no non è sponsor supporter è un supporter ha un cartellone l'accesso alla sua area ma si ma sti cazzi ma sti cazzi lui potrebbe essere anche il proprietario della torre di Trump ma non ce ne frega niente noi siccome ci è stato chiesto non fate rimettere la clip a wide lui ha detto giudicatemi come streamer per quello che faccio come streamer ok va bene quello stiamo facendo andiamo avanti dai andiamo avanti che il video anche qui è lungo quindi andiamo avanti tu vai su www.google.com digiti Matteo Saba Holding Open Corporation ti verrà fuori quel link lì esattamente quello che sto mostrando adesso è un semplice dato ma se tu metti il nome di una qualsiasi società ti viene fuori i dati della società della sede legale dove riceve la posta dove che è registrato alla camera di commercio specifica per cui sei tutta fuffa infatti lui è stato furbo perché ha tolto la live integrale e alla fine lui dopo che ovviamente io poi mi sono rotto i coglioni di star dietro a lui ha ritrattato praticamente tutta una serie di cose che lui doveva fare scusate sono un po' allergico alle cazzate non so starnutire era tutto il giorno c'è un po' di settimane che trattenevo questo starnuto perdonate comunque io non vedo l'ora che parli di me che dica nuovamente certe cose anzi più la platea è grande e più ovviamente gli farò il culo a livello legale anche perché io appena torno da Dubai stai tranquillo che al di là di fornire dei documenti a un ragazzo che si chiama Nicolas che me li ha chiesti glieli porterò personalmente a Torino e tra l'altro non vedo l'ora che stanno di venire tu hai capito di chi sta parlando qui non lo dire ma tu hai capito di chi sta parlando qui ok fa ridere fa ridere fa ridere ridiamo internamente Torino Comics così sicuramente incontrerò un paio di personaggi che sicuramente hanno un 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 io ci sono stato a Torino Comics non l'ho beccato comunque per essere chiari questo è ovviamente una mia supposizione ma lui era convinto per qualche magico motivo che io avrei partecipato a Torino Comics esatto esatto invece c'ero io però non l'ho visto comunque Matteo Palle quindi io ci sono stato a Torino Comics no ma ripeto perché lui è così preso perché dico ora ha coperto un po' la parte di Fabio ma lui non è che è arrabbiato solo con Fabio di look genetico è arrabbiato anche con Palle uomo sentiamo un coraggio pazzesco a livello di bocca quindi non vedo l'ora di sentirli dire certe cose davanti a me e poi così almeno ecco potrebbe aspetta le cose che avevo detto le posso anche ripetere eh no ma non vale non devi dire davanti a lui non vale qua è inutile che ripeti ma guarda a me pare che l'ultima volta tra l'altro è stato un casino che là purtroppo ripeto è finita io credo che l'ultima interazione in chiamata con Matteo è finita con me che ridevo alle sue cazzate a me viene più da starnutire oggi non so perché ripeto ho sviluppato un'allergia piano piano a forza di sentire determinate cose andiamo avanti procedurale relativamente a tutte le azioni legali che andremo a fare perché ovviamente loro pensano di nascondersi dietro a un computer ma forse non hanno capito un cazzo che questa roba qui me la sono legata al dito e io purtroppo minchia c'è un cazzo di difetto oltre a avere la voce grossa e quando io mi leggo una cosa al dito la porti avanti anche noi Matteo anche noi Avengers questa volta riuniti eh c'erano Podcast Wide Alf il team dei Palle Ombra se sono riuniti ce la siamo legati al dito e purtroppo è venuto fuori ma no io non ho non ho legato al dito nulla chissà perché sapevo a un certo punto che questo video sarebbe tornato molto utile eh certo comunque grazie a Viccus che ha regalato la Sabat ah grazie grazie mille Victus grazie mille grazie mille io ho messo il VIP a Rise ad Onorem gli metterei il mod ad Onorem anche se non passa mai cioè non passarà mai però il VIP mi sembra veramente il minimo se metti il mod non hai il VIP quindi non puoi fare entrambi infatti io ho messo solo il VIP per quello ho detto però ad Onorem mi sembra il minimo stavi cercando di scroccare un moderatore no sia mai ho messo il mio padre anche lui quindi assolutamente non mi permetterei mai di fare queste cose fino alla morte io ti ripeto e non lo faccio né per popolarità né per soldi credo tu stia iniziando a conoscere sì sì ma ripeto assolutamente e credo anche guarda tu sei uno dei pochi che ho accettato come richiesto su Facebook su Facebook su Instagram anche io eh sono stato accettato su Instagram quando ancora non era famoso tra l'altro scusa scusa altra cosa avevo chiesto un'informazione e l'informazione arriva con quell'account del Real ok quindi The President Club ora la prima volta che scrive da Liccardo è il 20 di maggio quindi possiamo asserire che il motivo per la creazione di quell'account non era scrivere però bisognerebbe vedere se Matteo tratto basso Saba è stato bannato in precedenza quindi vabbè non lo possiamo sapere delle cose che non possiamo sapere questi cazzi però sappiamo che con The President Club la prima volta che scrive è il 20 maggio quindi possiamo escludere come motivo di creazione dell'account il poter scrivere da Liccardo certo perché a me non me ne fotto un cazzo io avrò duemila richieste ma non mi interessa capito e ripeto mi dispiace non è che me la voglio tirare ma semplicemente perché io su Instagram ho soltanto amici o clienti avrò di 350 contatti avrò 150 clienti per il resto sono tutti i miei amici o anche amici clienti poi lo diventano nel tempo chi deve sapere quello che sono lo sanno e ripeto mi dispiace se magari ho utilizzato dei toni o delle cose dai degli strumenti alle persone per attaccarsi a sta roba e comunque è sbagliato ma tu penso lo sappia benissimo quanti strumenti ci ha dato quanti ce ne ha dati oggi ma la cosa il pippe che è incredibile The Predictor The Predictor TV incredibile è vero è vero ci ha dato un sacco di strumenti e ringraziamo Matteo per tutti questi strumenti che ci ha fornito per far sì che la live di oggi venisse così grazie Matteo voglio ringraziarti pubblicamente ci possono attaccare solo una cosa al cazzo capito non a quello lì di quelle che signore si vede che fa le salate al billionaire lui sentiamo sentiamo mezzo scemo non vedo l'ora di andare a Torino infatti così almeno insomma è un bravo è un bravo ragazzo è uno sfigato è un povero sfigato un povero sfigato ti giuro ti giuro realmente sfigato che lui è i palle ombra ti posso chiedere ti posso chiedere lo schermo un attimo voglio voglio essere visto voglio essere visto si faccia vedere prego prego cerco visibilità la scena è tutta sua palle uomo grazie possiamo andare avanti eh sei fatto fotterle uno sfigato ragazzi non è da tutti da un mezzo scemo da un mezzo scemo esatto con il green screen tra l'altro ecco ci sono delle chicche che le devo andare a ripescare bellissime perché siccome ultimamente si è concentrato sul green screen sul suggerimento di chissà chi non lo so però va bene non lo so non lo so diciamo cose che non possiamo dire è un dubbio vero vabbè sentiamo lo sfigato aspetta no no solo una cosa voglio solo chiarire che nella live di loop non è nel pezzo del freebooter però lui non aveva capito inizialmente che io stessi usando un green screen ed è il motivo per cui la clip si c'era la cella che lui neanche aveva capito fosse una cella però è il motivo per cui metto il villaggio dei puffi è quello perché dico guarda è un green screen eh vabbè quanti ne abbiamo passate palle uomo ma e ai nostri figli quanti ne avremmo da raccontare ah senti chiede anche fratello Sik quando può entrare per me può entrare dopo questo video dopo questo video ah no vabbè ovvio può entrare anche ora ovvio però dico poi dopo questo video magari facciamo un simpatico slash user grazie mille Zilo grazie mille va vedere i treguardi stai raggiungendo soprattutto perché ci sono eh vabbè Zilo ragazzi posso dire scusate Zilo è il mio primo spettatore no il primo no perché c'erano pure i miei due mod però mi ricordo le live con solo Zilo in chat me lo ricordo ancora grande Zilo quanti mesi c'hai ma pochi in realtà se non me ne hai fatti di più va bene andiamo avanti ma poi uno che mi attacca tutta la sera poi il bello che si è messo a fare il fenomeno eh storpiando perché io avevo scritto ovviamente velocemente eh alle volte io purtroppo col fatto dell'inglese confondo le E con le I ok e quindi alle volte magari è tipo il nome di questo studio legale che gli farà molto presto il culo a lui all'altro scemo e qua c'è lo studio legale no ma devo fare anche un'altra cosa anche un'altra clip che devo recuperare lui ha appena detto una cosa per giustificarsi perché avesse sbagliato a scrivere no poteva dire banalmente ho sbagliato a scrivere capita un typo certo no invece lui che cosa usa lui ha detto no perché siccome sono abituato a lavorare in inglese ogni tanto confondo le E con le I e uno potrà dire ma dove l'ha trovata questa scusa questa scusa che lui ha usato qui come scusa era una mia battuta il giorno prima perché lui era ancora in chat scrive sta cosa male lui dice ho scritto male ho scritto male anzi lo dirà anche dopo in quella live e io gli faccio quando ancora lui è in chat dico a Fabio dico vabbè Fabio pure tu non fare il pesante cioè sono abituato a parlare in inglese si sarà confuso tra E e D certo e poi ovviamente non ha senso ma tra l'altro vedi non ha neanche capito ecco gliela spiego ora è brutto spiegare le battute non ha neanche senso è paradossale perché E e I al massimo a livello fonetico si scrive E si pronuncia I ma se stai scrivendo avresti dovuto usare un'altra lettera perché la I pronuncia spesso I ora lo sai dai Matteo quindi la sta citando Palle Uomo però senza citarlo vabbè ma sei uno sfigato non meriti di essere sei un piccolo cazzo a gamberette e basta umile e quindi qua sta annunciando cosa ha fatto con questo famoso studio legale sentiamolo uno dei top 50 studi legali al mondo che fattura diverse centinaia di milioni di dollari guarda la faccia di Pimpega tra l'altro in tutto ciò bellissimo scusami cosa che stavo dicendo non mi ricordo è di Palle Uomo ah niente praticamente lui ha iniziato a parlare di questo studio stamattina gli ho girato praticamente lo spezzone dove lui faceva il fenomeno a una persona correlata a questo studio cioè non ti dico cosa potrebbero fargli cioè proprio li asfaltano che veramente si devono vendere gli organi per pagare poi i danni capito perché facilmente saranno ritorniamo sugli organi incredibile è proprio c'è il bello di Matteo che anche se anche senza fare tutte le verifiche che abbiamo fatto noi in questi giorni ha talmente dei termini riconoscibili che lui c'era proprio delle chicche che lui ripropone in forme diverse però è sempre quello comunque attendiamo sempre questo asfalto perché Palle Uomo fino ad ora a che mi può confermare lui non ha ricevuto nulla da Bonelli diciamo così Bonelli quella dei fumetti si è Bonelli Tex Wheeler sono anche lì dietro Zilandog Nathan Ever dallo studio guarda io con i fumetti io con lo studio legale erede Bonelli non ho mai mai avuto a che fare mai ricevuto comunicazioni da loro quindi poi lui ha detto che mi ha graziato mi ha graziato lui ha detto che no però il problema qua non è che lui dice lo denuncerò così lui dice che l'ha già fatto ha già parlato con persone di questo studio che gli hanno detto che è gravissimo andiamo avanti però tu non lo farai vero non lo farai no no lo faccio certo che lo faccio dai forse ne hai capito dai forse ne hai capito su Palle Uomo dai sono personaggi che fanno show no no io gli faccio il culo gli faccio il culo ma poi alcune cose partiranno diciamo ragazzi ma quanto fa ridere vista oggi questa cosa cioè ma è incredibile quanto fa ridere vista oggi questa cosa cioè è assurdo gli faccio il culo adesso cioè proprio è l'altra faccia della medaglia incredibile cioè oggi è veramente il punto che mi diverti di più e ci riporta al motivo per cui quella fredda notte di novembre è voluto entrare per insomma chiarire asfaltarmi di nuovo è quello che dirà ora sentiamolo quasi d'ufficio perché comunque dai veramente hanno hanno cagato fuori dal vaso sai finché prendi in giro quel mitomane di Niccardo Rosario è un conto perché quello lì è un deficiente poveraccio è alla fine cos'è ormai è quasi sparare sulla croce bianca perché dopo le ultime azioni che ha posto in essere no ma è un capolavoro ti ho detto vederla oggi ma l'ha citata pure prima a bicchieri questa infatti l'ha citata prima in chat dal Cerbero Bicchiere questa della croce bianca a ridere ogni volta no ma è veramente incredibile no ragazzi perché chi viaggia chi viaggia tanto ogni tanto cioè c'è questa cosa che in alcuni paesi bianco si dice rosso allora si è confuso no no ovviamente no è una battuta compiere delle discoteche però sai magari quando andrò a Capri in barca quest'anno o a Sorrento magari avrò bisogno di un PR magari lo chiamerò così per una volta potrà fare un lavoro anche guarda se c'è bisogno di un PR guarda vengo io che ho no dai non cazzeggiamo comunque ripeto guarda che bello Pippega PR io con sax suonavo sarebbe stato così bello Matteo ma perché hai rovinato tutto perché hai rovinato tutto Matteo perché perché potevamo suonare in barca comunque ragazzi sono incredibili siete incredibili esiste la croce bianca si si dice sparare su su dai ci puoi arrivare il detto è diverso dai ragazzi questo non mi fate spiegare l'ombre dai dai sarebbe stato così bello Matteo abbiamo rovinato tu mi avresti dato i 500 euro che mancavano per i boss kart stupefatti l'evento dell'epigono del Cerbero cioè tutto rovinato per cosa? incredibile lui ha tirato fuori queste due queste due queste due cose te le ho mandate perché non c'è nessun problema no certo è un poverino comunque ripeto tanto che poi alla fine la cosa bella di Loop è che dopo che io ovviamente perché io faccio io alle volte faccio lo scemo sono scemo però faccio anche lo scemo io avevo già una serie di informazioni su questo personaggio qui dopo chiaramente quello che avevo combinato ti dico erano informazioni pesanti perché io comunque a Palermo conosco delle famiglie importanti ne ho citata una che è una famiglia importante di Palermo e gli ho fatto un esempio io ho detto tu non sei Mirri Mirri è una famiglia importante nell'ambito dell'editoria poi io con Palermo su questa storia Fabio ha sempre detto che Mirri ha detto ma no è uno che si è fatto una foto però questo è quello che riferisce Fabio esatto questo è Fabio l'ha detto già più volte che lui lo conosce questa persona a cui si riferisce Matteo in realtà a quanto dice Fabio ha negato tutto però ovviamente a Palermo c'è un rapporto speciale anche per chi io corso cos'è Circento ma non è vero che nessuno ha donato Circento Victus ah no ma era il tuo Circento missato me ti dice che fai voglio dirti davanti di una persona che sono orgoglioso ah ma questo è quello del suonatore ma io l'ho ringraziato il suonatore grazie suonatore sulla targa Florio con la Ferrari ho fatto tutta una serie di cose ma basta che vai su Inter dovrebbe ancora esserci tutti i dati dell'ultima targa Florio che ho corso nel 2017 tra l'altro con un amministratore delegato questa è bellissima la targa Florio allora che cos'è questa cosa lui dice lui ho corso la targa Florio in realtà successivamente lui stesso procura il documento web dove fa vedere che lui è lì nella lista dei partecipanti e purtroppo non era la targa Florio ma la Tribute è come dire c'è che è una cosa diversa una esiste è vero ci ha partecipato ci sono anche dei video sul web ma la cosa è che Tribute ok Targa Florio Tribute non è Targa Florio è come dire io ho suonato nella Tribute Band dei Pink Floyd non posso dire io ho suonato ho suonato nei Pink Floyd ma ragazzi ma ragazzi ma se stiamo qui dietro a queste cose fino a prima veramente perché è un ha detto talmente tante cazzate cioè che veramente sì ma c'è un punto che è bellissimo vai vai una società che è importantissima nell'ambito del il Pink Floyd che è quella citata anche nel Corriere del Corriere dello Sport è tutto sport per il quale appunto abbiamo fatto intervenire il il Qatar in Italia perché questi hanno degli investimenti importanti nell'ambito sport tu hai detto che non ci sono tante persone che possono vedere le tue story di Instagram io ovviamente non le sniccio però posso ammettere che possiamo dire con chi eri ieri sera possiamo dirlo stamattina stamattina con Fabio Paratici con il direttore del Sport in Amma Sports dove fino a dove però però io ti chiedo soltanto una cosa visto che su Riccardo ti dico sono due anni che lavori tira dritto tanto no no su Palle Uomo ti chiedo la cortiguara fallo per me no Palle Uomo è entrato ma che carino Pippega che si scrive bellissimo è una poesia d'amore primo posto guarda ti posso dire una cosa Palle Uomo li ascoltiamo no no ma no ma cosa fa ma è impazzito ho solo fatto un po' indietro ragazzi io diciamo che se uno spettatore a questo punto lasciasse la live non avrei nulla in contrario ma non l'ho fatto non è colpa mia ma anche avessi fatto la stagione era 8 tipo 8 qualcosa era qua ma va ma va ma anche ma anche su Palle Uomo ti chiedo la cortiguara fallo per me no Palle Uomo è entrato di diritto al primo posto guarda ti posso dire una cosa quello che ha fatto le parole che ha usato Palle Uomo mi hanno dato talmente tanto fastidio che ho stamattina ho fatto quello che con Liccardo non ho fatto in due anni ti voglio solo dire questo per questo ti ho detto che sarà importante cioè mi immaginate veramente Palle Uomo cioè e su Liccardo ha detto che avrebbe fatto una classation cioè e invece su Palle Uomo peggio peggio addirittura Palle Uomo perché io ho detto Matteo come stai solo perché mi ha chiesto come stavo cioè Palle Uomo si è preoccupato siccome Matteo urlava nella live di Rup si è preoccupato giusto ma vai vado tanto quello che succederà dopo il 13 perché succederanno delle cose molto molto grosse ma ripeto lui non si deve preoccupare perché il famoso 13 questo me lo ricordo ecco vedete mi ritorni in mente come sei cioè proprio questa roba del 13 me lo ricordo che dal 13 avrebbe fatto la classation tutto non ha mai fatto un cazzo e io ancora sta letterina dalla Repubblica di Roma non l'ho ricevuta Marra un preavviso però adesso Marra anzi il Cerbero un preavviso io ancora non l'ho ricevuta è che se tu mi prendi per il culo e fai ridere io ti sto dietro ma dal momento tu mi manchi aspetto e allora lì poi poi è dura è dura è dura infatti per Palle Uomo è tuttora dura ripeto dai non mi farà anticipare troppe cose no 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 ti chiedo soltanto di rivedere la posizione su Palle Uomo perché comunque è il suo modus operandi fa un po' il trollino ma a me non me ne frega niente di lui quello è uno sfigato cioè ripeto è un inetto è un poverello ma non un poverello perché non c'è i soldi capito anche io vengo da una famiglia modesta che si è sempre spaccato al culo e che ha fatto i sacrifici per farmi studiare lavorare e fare e darmi una Jurassic scusa rispondo non ho segnalato l'evasione del ban a Twitch ma io penso che dopo la live del Cerbero la nostra live io se vai in live io se vai in live lo faccio di nuovo nel senso sì 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 però comunque io immagino che insomma tra l'altro tra l'altro ha mandato un audio flame ha detto che ancora non è rientrato a casa quindi per un'altra volta va bene va bene va bene non ci mancherebbe no no mi faceva piacere se vuole entrare mi fa se ci hanno detto quando vuole va bene andiamo avanti una vita più che decorosa però sai quando tocchi determinate determinate cose allora non mi va più bene e ti dico gli farò passare veramente guarda te lo posso giurare su mia madre che è la cosa cui tengo di più al mondo no io per quello tu capisci perché quella volta che ne pensi di chi giura sulla madre sulla bambina no la mamma è una e poi non fa quello che ha giurato io dicevo ma povera povera ma io spero che la signora stia al meglio ma no sulla mamma e quello giura sul figlio e quello sulla madre quando vi dico che l'Iccardo è meglio perché almeno l'Iccardo giura sulla madonna vergine siccome almeno per come la penso io la madonna vergine non esiste non andare così avanti non andare così avanti che poi offendi credere ma io ho detto per come la penso io mica offendo nessuno ho detto come la penso io la madonna vergine non esiste tu devi essere tu devi essere uno che si vende ok quindi se tu non credi in alcuni valori ad esempio quelli cristiani cioè non è che poi eh che ti fai portavoce dei valori cristiani a pagamento cioè capisci non lo devi fare per le sub dai allora facciamo finta che credo in Dio credo in Dio Giori mi dispiace se lei sia offeso credo anche io nella maggiore maggiore però meglio la madonna vergine secondo me che la mamma che la mamma è una la tanca la madonna vergine però se questo ti ti può bastare ti farò bastare veramente basta però però ti chiudere ti farò bastare lo so che sei incazzato lo so che sei incazzato Matte però tutto ha un limite capito nella vita perché cioè io sinceramente che devo dare spiegazione a questi pippò pippò vorrei riascoltarla ma se porto indietro mi si chiude tutto allora è bello pippò pippò potranno parlare ad oggi loro non sono degni perché non sono nessuno è tutta gente voglio chiedere una cosa a Matteo ora e mi metto anche un attimo in full count Matteo oggi noi siamo degni siamo stati degni di far vedere al mondo al mondo a Twitch cioè al mondo sembra quasi di che pasta sei fatto che persona sei siamo degni ora Matteo possiamo sederci al suo al tuo tavolo eh magari tu ci fai un giro sotto a tutti eh no è il tavolo tu ho citato Liccardo senza dire la frase di Liccardo eh Matte io ti metto eh ci siamo capiti volevo citare il maestro ma senza citarlo veramente andiamo avanti questo maledetto tavolo gente che cioè tolta da da quella da quella webcam cioè come cazzo si chiama è finita cioè capito non non possono però quando tutto chi certe aspetta un attimo Pippo sì sì perché sono entrato in camera chiedo sia l'ho skipping 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 no no 4 4 vabbè qua vuoi schippare scusami Pippo vai tranquillo vai tranquillo dovevano rifare la la camera vabbè la fanno dopo non è un problema non è un problema fanno la prossima io alle 5 cioè devo andare perché lì c'è un'ora di differenza ok e niente dai se non c'è altro che mi devi chiedere non c'è un'ora di Pippo diventa assolutamente un meme lo vorrei portare indietro ma al primo ho fatto il Pippo 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 era bellissimo tanto ripeto la si può modulare un po' come si vuole no mi distanzio Pippo Pippo vabbè gli artisti faranno posso fare posso fare posso avere un po' di abbiamo tante bellissime emoti su questo canale ce n'è una che ha delle lettere quattro lettere godo godo si 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 può spammare l'autorizza l'autorizza va bene dai la solita minestra dai ci aggiorniamo senza problemi iniziamo iniziamo a far parlare i fatti dai ti ringrazio iniziamo a divertire cerca 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 di di palle uomo fidati una piccola fiducia alla Pippega palle cazzo palle cazzo prendo la responsabilità di palle cazzo dai farmi sto piacere dimmi solo che ci pensi mi basterebbe Pippega difesa spada tratta palle uomo incredibile scusa un attimo un botti sempre il benvenuto quando vorrai o se vorrai nel caso ovviamente io ti faccio solo una domanda ma in questo momento stai stai sorridendo pure stai sorridendo tantissimo mettiamola così tanto tanto no però volevo dire a tutti che con un botti mi sono sentito e mi ha detto che ci farà sapere perché un botti cioè se oggi se oggi l'abbiamo accasciato un botti potrebbe proprio eh bravo Fubbe giustizia per un botti concordo un botti potrebbe veramente affossare tutto no ma in realtà guarda io lo dico io lo lo dico tutti quelli che se se è vero se è vero che ci sono tante persone ok che dicono alcune però non l'hanno voluto prendere pubblico di essere stati vessati ovviamente al di là di quelle che rimangono immutate simpatie o antipatie pieno sostegno e solidarietà perché questa roba che ha fatto Saba quello che abbiamo discusso nella live del Cerbero e oggi la giudico vergognosa certo no quello che ha fatto un botti i ragazzi va oltre forse veramente tutto quello che abbiamo visto fino ad ora cioè io ripeto non conosco la situazione e non ne parlo però piena solidarietà a chi è stato vessato assolutamente assolutamente e spero che un botti prima o poi chiaramente c'è di mezzo la legge e tante cose quindi spero che un botti prima o poi possa parlare di questa cosa anche pubblicamente su Twitch e spero che lo ascoltiate perché ha veramente una storia di cui io mi ricordo molto bene ok andiamo avanti e non lo può fare ragazzi però con calma con calma un po' ma ci mancherà ci mancherà ci mancherà io spero solo che le cose vadano per di meglio esatto beh in questo momento assolutamente no perché io purtroppo su queste cose qua non posso transigere mi dispiace va bene non ti posso promettere una cosa che non mantengo cioè non fa parte della mia persona capito cioè ti prenderei per il culo non mi va va bene nessun problema buon Londra allora ti ringrazio Matte ti mando un abbraccio forte ciao caro ciao ciao vabbè qua c'è la parte finale che ho lasciato per completezza perché fa un po' sorridere mettiamola così cioè è una considerazione finale del pippega però non è per schermire aspetta che c'è il mind che si fa una roba scusa la leggo intanto vai 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 di quello che stai dicendo intanto io leggo quello che mi ha scritto in realtà inattiva per un holding non fattura perché un holding e non fattura è una bufana io non ho mai avuto alcuna d'ascolazione economica o fiscale di acquisizione anche una società scriviamola in privato magari come si chiama mindrapper perché adesso stavo leggendo un po' off topic magari mandamola in privato poi ti rispondo in privato o su instagram mi puoi seguire lì o su telegram dove vuoi andiamo al commento finale di pippo ripeto non è duncol io riporto semplicemente quello che è stato detto perché duncol che aveva scritto in chat aveva scritto una cosa ora non la leggo perché è piccola però era qualcosa del tipo per aver dato il fianco a una possibile denuncia esatto concordo vedi anche duncol scrive cose con cui mi trovo d'accordo oggi è proprio una giornata fantastica oddio questo è un evento del passato sette mesi e passa fa breve recap john christian guardati la live di stasera del cerbero sicuramente ci sarà anche un po' di un cappino sì esatto per chi si fosse perso che è successo nella live dell'eventuno del cerbero faranno vedere un video che gentilmente non è stato visto prima se no questa live insomma non avrebbe avuto tanto senso perché riassume brevemente tutta la questione non proprio tutta 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 però per il resto ci sono le live di vari canali su questo canale ne abbiamo parlato di altre vicende Germano Milite sui suoi canali non su twitch ne ha parlato e anche il cerbero ne ha parlato su tutta roba che si trova insomma su youtube facebook va bene finiamo il video però per il recap di oggi stasera al cerbero il recap di quello che di cui abbiamo parlato oggi tra il live del cerbero e questa live ci sarà il bellissimo ripeto bellissimo video di rise guardate io l'ho già visto e io lo invidio io lo invidio al cerbero io lo invidio un bel recappone di rise lo volete divertire e lo so lo so john ma chissà se anima dirà qualcosa adesso che i nervi sono scoperti c'è questa clip che io non posso trovare perché la live è stata cancellata e mi dispiace anche perché insomma l'avrei mostrata senza problemi e no io non c'entro assolutamente un cazzo vito cioè ci mancherebbe anzi anzi forse ho dato degli strumenti degli elementi per per avvicinare giusti giusti non so come si legge ha detto una cosa giusta quindi cerbero quando ma tutti abbiamo rischiato perché nessuno c'è nessuno era consapevole del band di Matteo ovvio ovvio ma neanche la piattaforma per cui ovviamente non è che noi verremo puniti per questo ovviamente grazie Cadons per Detroit Beats bisogna dire le cose per avvicinare la situazione io spero che che Matte ci pensi sopra sulla questione perché Palle Uomo so come fa l'ha fatto anche con me lui gioca lui scherza è il suo modus operandi che carino che carino ahimè sul web capita spesso e volentieri che si dicano cose che potenzialmente potrebbero essere dannose davanti alla legge io stesso le ho fatte io stesso le ho dette però diciamo che c'è un tacito accordo tra gli streamer ovvero quello di accettare fin dove il limite è possibile la gag la diffamazione e quant'altro ok comunque vabbè io su quest'ultima parte ancora oggi non mi trovo d'accordo nel senso che non ho mai fatto accordi con nessuno ma è che io ma su tante su tante questioni cioè io se devo scherzare scherzo ma no non ho il modus operandi del trollino ok va bene insomma che viaggio che è stato un bel viaggio ma che non è secondo me ancora concluso perché ripeto ci potrebbe essere un esplodium botti usciranno tante altre cose io spero che c'è stata una una live combo col Cerbero io spero che abbiate che era dito questa collaborazione che vogliamo chiarire una cosa è stata richiesta dal Cerbero non da noi questo ma come è stato fatto altre volte è utile perché per dire è un piccolo flex per ridere ovviamente sarebbe uscita una cosa completa ma non completissima cioè proprio mancherebbero quelle ciliegine perché ad esempio avere alcune cose che non andavano confermate in quanto già certe però avere la conferma di chi vi ha vissuto ad esempio e lo ripeto per chi se lo fosse perso Ivan Grieco che conferma di ricordarsi che l'account era quello e che fosse anche stato bannato Rise che ha contribuito a confermare un sacco di cose e a fornire ulteriori prove ad esempio quel bot che dà la data esatta del ban certo ma c'è un sacco di gente che ha collaborato ovviamente molti non vogliono essere citati quindi non li citiamo infatti non si omette non si omette praticamente tutti quelli che pubblicamente hanno voluto essere riconosciuti sono stati riconosciuti tanti altri forse anche bene che non vengono fuori perché sennò capito la gente pensa pensa che chissà quali strumenti capito è solo quel coglione di palle uomo che va in giro a farsi i cazzi degli altri certo no però è stata una collaborazione ma in realtà non è neanche la prima ragazzi perché col Cerbro abbiamo già collaborato ed è stata anche parte del merito scusate parte del materiale della sostanza che mi ha fatto prendere la partner nel senso che noi nell'ultima richiesta partner l'abbiamo comunque fatto presente aspetta noi non lo sappiamo non lo sappiamo però possiamo dire che nella richiesta nella richiesta per la partner abbiamo citato anche perché siccome si parla anche nel dare la partner del contenuto ok a te alle volte ti hanno detto no il contenuto non è abbastanza per avere la partner certo quindi noi abbiamo evidenziato qual era stato il contenuto dell'ultimo mese mese e mezzo prima di richiederla evidentemente abbiamo convinto qualcuno lo so certo certo no però quello che vuoi dire è che non è neanche la prima volta che collaboriamo col Cerbro nel senso che no abbiamo la questione per il subgate c'è stato e anche in cui Palle si è avvicinato anche un palo oro gli ha dato Palle è stato fondamentale nella parte del subgate ancora più di questa volta qui perché qui ci sono anche tanti altri i dati ripeto per chi non ricordasse o per chi non sapesse mentre noi stavamo ancora in live e in quella live avevamo esposto i numeri precisi numeri precisi con l'evidenza inconfutabile delle sub strane prime di Joker mentre noi eravamo ancora in live è stato prima disaffiliato cioè neanche gli hanno levato la partner a Joker in diretta ma proprio l'affiliazione così che neanche le sub si potevano fare e il giorno dopo è stato bannato ci sta ci sta che lo staff di Twitch si prenda il tempo una volta che viene dotta la situazione uguale il cartello fa la live il cerbero lo staff se ne accorge cartello bannato però anche lì anche noi in realtà lì non c'è stata proprio una collaborazione diretta come le ultime volte nel senso proprio a livello comunicativo però io sicimene ho red dei tempi e te anche ci avevamo segnalato questa cosa solo che noi eravamo canali piccoli quindi abbiamo chiesto una mano all'olimpo di Twitch anche in quel caso che era successo perché lo disse il cerbero in live lo ricordo questa notizia in realtà c'era già segnalata l'operato di sto canale riferito al cartello c'era già stato segnalato però non ci abbiamo dato troppo peso pensavo che fosse una cosa non così importante o comunque una roba che non volevamo portare poi si sono resi conto e hanno hanno portato la roba l'ha portata il Chitano l'hanno portata d'oro e ci sta ci sta certo ogni tanto le collaborazioni nascono vuole entrare sì che se no io io il presidente no perché ora c'è nel senso il canale è ancora online però io presuppongo mi auguro che dopo aver preso visione delle prove inconfutabili lo staff di Twitch banni vi daremo notizie nei prossimi giorni intanto visto che siamo ancora molti io ovviamente ne approfitto per dirvi che c'è un canale youtube che volete seguire c'è un telegram in cui potete entrare instagram volendo anche per rimanere aggiornati lì vi aggiorniamo e ricordatevi di seguire anche oggi alle 21 la live del Cerbero che ci saranno ancora ulteriori aggiornamenti e un video che già arrivo ok ti aspettiamo sic ulteriori aggiornamenti adesso facciamo entrare sic un attimo adesso vogliamo fare un veloce slash user grazie mille c'è ben i cento ah ma scusate gli allard disattivati perché sennò avremmo intasato c'è sic ma lui forse ha i permessi ancora i permessi incredibile mai tolti si che sento parlare di presidenti qua ragazzi è un po' grave è un po' grave qua la situazione beh dopo effettivamente come suggerisco in chat come suggerisco in chat io dopo andrei dai mercanti si 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 facciamo dire mercanti assurdo alla fine ragazzi mi sa che è così doveva rimanere un solo presidente cioè erano troppi due presidenti questo lo dicevi già ma te lo stavamo ai tempi due presidenti e lui diceva ma io sono il vero unico presidente invece è invece ha una certa ha una certa ho dovuto togliere più la stanza presidenziale perché mi sentivo un presidente basso spendente quindi ho detto ho detto vabbè scusa bene possiamo dire una cosa che poi questa vicenda in realtà gira tutto intorno e green screen mi raccomando tutta colpa di green screen è vero sempre tutto gira attorno ai green screen non si sa come infatti si dovrebbe chiamare il green screen gate il green screen gate il green screen gate green screen gate niente comunque sono contento che sono uscite tante cose perché io sono per la trasparenza ok e quindi tante cose usciranno ci sarà ecco posso fare uno spoiler però ci sarà un gioco a un certo punto indovina il canale perché è una persona che scriveva tantissimo tantissimo su tutti i canali quindi e scriveva delle perle bellissime che sono state confutate in seguito quindi siccome ecco anche questo a chi dice ma i log i log i log di chat di canali ok sono è una chat IRC pubblica ok quindi non è Ackerman che va a controllare diffonde roba no no le chat sono pubbliche io a questo punto ripeto l'unico consiglio proprio a livello umano ci sono due possibilità rimanere in silenzio oppure parlare chiedendo scusa certo ci sta ci sta bellissimo ma non lo farà mai ma perché non fa parte proprio del 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 qua no io ti ho detto guarda tu giustamente poi meno ne parli però veramente questa roba qui di Alessio che mi hai fatto vedere in inizio live è schifo no ma lo sai perché mi sale veramente il disgusto ma quella però è la conferma che oggi voglio essere felice e oggi voglio essere felice e lo so però quella è la è la conferma che non sta dove dove rivolgersi no dice che che mi invento ora la punto sulla pietà falsificando la data di morte di quello che dici che è il tuo più grande amico quello come avete detto prima mi ha lasciato proprio un'amarezza brutta il giorno del compleanno ma che schifo ma scusatemi ma a livello umano che schifo proprio oggi il giorno vabbè comunque no nel senso si ando a wikipedia io non lo so si potrebbe vedere il cartellino visto che giocava a calcio ma ma si cazzi ma in ogni caso sappiamo per certo che la data di morte non corrisponde l'anniversario e la morte non è oggi no questa cosa è assurda ragazzi quando l'ho sentita ho visto non parlamone più no 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 infatti perché non voglio farti il bene scusa Palle sarà il tiro fuori ha ragione no quello che voglio dire è che la dimostrazione è che quest'uomo non farà mai un passo indietro ok io spero che sia solo un momento di confusione io spero solo un momento a caldo di panico e confusione che dice ok ora che cazzo mi invento ok io spero che poi a freddo abbia la lucidità o di stare zitto o di chiedere scusa non ci sono altre vie punto però è quello che riconfermo quello che dicevo prima su Riccardo cioè nel senso che almeno capito almeno quando come dice lui ho chiesto scusa dove ho sbagliato due anni fa cioè è un meme però è vero nel senso che lui almeno quello l'ha fatto poi quello non ha zera tutte le cazzate che ha fatto sul web però almeno umanamente dico cazzo ha fatto un passo verso essere almeno cosciente ha cercato la redenzione bravo un passo verso la redenzione quindi questo ancora viene a male che di più però il personaggio lo conosciamo questo è quindi che possiamo farci ragazzi che volete fare siamo in conclusione facciamo sto raidino se volete si quando farete slash user vi farò compagnia che guarderemo questi chat magari lo facciamo domani no che sono due ore lo facciamo un'altra volta perché sono stanco sì 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 sono stanco sì 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 sono anche felice io ringrazio tutti ancora sia chi è stato già nominato ma soprattutto chi non vuole mantenere insomma la riservatezza io ringrazio tutti e tutto è tutto godiamo un po' no c'è stata una cosa bella che mi è piaciuta appunto è stata questa unione tra tutti nel cercare comunque di aiutarsi a vicenda per certe cose ma sì sì sarà io devo dire la verità appunto l'epigono ha raggiunto per una volta l'Olimpo come si vuol dire però veramente il Cerbero è stato abbiamo collaborato veramente bene sono delle persone che lavorano bene perché queste cose le fanno anche da più tempo di me quindi ringrazio Cerbero per il radio ringrazio tutti per il lavoro che c'è dietro il backstage diciamo così ringrazio voi che siete rimasti qua fino ad ora comunque siamo ancora 800 oltre le aspettative perché ovviamente c'era anche già tutta la live del Cerbero seguirsi 4 ore di live ci vanno le palle ci vanno le palle per restare in tema quindi vi ringrazio spero che alle 21 il video di Rise dal Cerbero mi raccomando seguite alle 21 il Cerbero e noi vi mandiamo dai mercantoni mercantoni su Discord voi due saluto Palle saluto Sic il vero unico presidente ormai su Twitch sono un presidente sono un presidente mi raccomando seguite anche Palle Uomo ovviamente magari adesso che ha finito le inchieste tornerà anche a fare il suo Minecraft o comunque sul suo canale andatelo a seguire vi saluto dal Discord ciao ragazzuoli ciao io aspetto con Palle ragazzuoli vi mando dai mercanti grazie a tutti grazie per le sub grazie ai moderatori vi faccio un pompino multimediale stasera mi scuso se la live è stata non ho avuto tempo di organizzarmi ovviamente perché sono stato al Cerbero poi quindi ringrazio tutti anche per i follow non so quanti follow avete lasciato oggi spero che questa live vi sia piaciuta spero che questa collaborazione o il Cerbero vi sia piaciuta e noi ci vediamo come tutti i giorni domani alle ore 18.30 su queste frequenze ok vandate dai mercantini mi raccomando salutatemi ciao ragazzuoli se vuole bene ciao a tutti ciao un saluto epigonale a tutti ciao ciao